voglio sapere chi cazzo voglio sapere chi so ci devo parlare che ne so ci parla lei fa tutto è una rica drissima certo che però nel caso non ce la facessimo tu chiamala russiri di piena che va benissimo perché siamo siamo in un ambiente pronti avete tutti le cuffie per chi è arrivato adesso per chi non c'era stamattina ripeto che le persone parlano possono parlare in italiano inglese francese e spagnolo per cui se non comprendete una di queste quattro lingue dovete prendere la cuffia quindi se non comprendete una di queste quattro lingue inglese francese spagnolo e italiano dovete prendere le cuffie per l'interpretazione perché le persone possono parlare in queste quattro lingue e in le cuffie ok allora allora cominciamo questa seconda sessione con il collegamento globale con l'assemblea della terra allora allora noi abbiamo molte decine di persone che sono collegate e che si sono registrate già da diversi giorni online per partecipare a questo per assistere a questo webinar avremo un collegamento con l'assemblea della terra in america latina avremo un collegamento con la cop 27 a charme sheik quindi con gli attivisti che sono là avremo alcuni interventi brevi il la regia di questo incontro sarà fatta da Cristofa Guiton che sta qui e che sarebbe dovuto essere qui al posto mio ma per motivi di regia deve stare lì è quello che vedete con la camicia azzurra quindi non lo vedrete dal vivo ma in realtà la regia di questo evento avviene da qui lo vedrete in video perché ci sarà una finestrella che lo mostra e a questo punto penso che siamo pronti e possiamo partire Cristof I leave you the chair dopo 30 anni di negociazioni climatiche sta chiaro che le Nazioni Unite non produciranno i risultati necessarii per evitare il colapso ambientale con il Acuerdo di Parisi le emissioni di gasi di effetto invernadero con il Acuerdo di Parisi le emissioni di gasi di effetto invernadero bajaranno una decima parte di lo necessario per limitar il incremento della temperatura per debaio di 1.5 gradi cento gradi cento gradi COP 27 la justicia climatica la justicia climatica solo può venire ma anche da la situazione la situazione della società la società di terra che construa i territori libri di extractivismo consumismo contaminazione e violenza la luce contro il colapso climatico sta legata a la luce contro la guerra fascismo capitalismo colonialismo patriarca e il racismo Asambleas de la Tierra non solo di paesi, ma di naturalezza dove construiamo alternativi sistemi non antropocentrizi Asambleas de la Tierra per recuperare la esenza della humanità e superare la crisi di risultati Asambleas de la Tierra in barri, scuole, lugares di lavoro comunità e municipi che promuovano società semplici e moderati garantizzando i diritti i diritti i diritti i diritti Asambleas de la Tierra per impulsare una transformazione estructural del sistema delle Nazioni Unite dove tutti i paesi siano uguali e non stanno con diritto a veto dove existe una representazione tripartita in igualità di condizioni di governi, società civil e naturalezza e dove si adopten acuerdos vinculanti per restabilecer l'equilibrio del sistema della Tierra oggi la COP27 è in Egitto un paese petrolero con più di 60 mil deteniti politici il prossimo anno tendrà lugar in Emirati Arabi altro paese con graves violazioni a los derechos humanos è tempo di fortalecer le luchas che vengono che vengono da l'abagio è tempo di potenziare le alternativi di resistenza da l'abagio di territorio è tempo di unificare le nostre le nostre iniziative in una grande Asamblea Mundial della Tierra che rompa con la hipocresia delle conferenze di cambio climatico e che inizia a marcar un cammino di verona esperanza e aczione con justicia climática di uniscord att grante 벽 championship dall'ambito a presto asfal lo attraff attraff di uniscord di uniscord esclare vivll attraff ... Ok, no, I'm not there. Ok, ok, hello everyone. I'm very happy to introduce extremely quickly this webinar, which is the Earth Assembly, which is a way to link here the people in the COP27 in Sharm el-Sheikh with some friend from Egypt, which is for a reason he will explain doesn't live today in Egypt. Then people in Latin America from the Earth Assembly, Pablo Solon, who was part of the team who realized this very nice little video. Then Zé Correa from Brazil will explain the challenges of the Amazon and Brazil and Latin America after the victory of Lula at the election. And then we will have at the end of this half an hour an answer and reaction of Luca, who was talking this morning in the Assembly in France, who is one of the spokesperson of Friday for the Future in Italy. Ok, thanks a lot. Now we have Dottie Guerrero. Dottie Guerrero is an activist from Global Justice Now, and she's in the COP27 in Sharm el-Sheikh. And I believe she will present for us the main challenges and goals of the COP27. Thanks a lot. Dottie, you have the floor. Thank you, Christophe. Can you hear me now? Hello. Thank you, Christophe. And hello to everyone. Buongiorno. We are here at the Civil Society Hub in Sharm el-Sheikh. And we just participated in two actions for today. So there's also a global march here inside the venue, participated by everyone who has the badge to get inside. And then there was also, just also before coming here, an action on climate debt. And as was mentioned before now, we are close to three decades now. This is Conference of Parties, the 27th one under the UN Primo Convention on Climate Change, the Kyoto Protocol, and the Paris Agreement. And many of the southern delegations here are growing more and more frustrated each day because it looks like there is a big gap for the north. They lack political will and policies. And for the south, they simply need justice and they need funding, climate finance, and technology. And those are two simple words. But inside the negotiation, it looks like they are talking over each other's heads. And even until now, after 27 cops, the term equity was also frustratingly not understood in the same context. This cop, the litmus test would be climate finance for adaptation and the loss and damage facility. And on one hand, it is good that it's back in the agenda after Glasgow when it was told that there will only be a loss and damage dialogue that will take three years. So now it is put back in the agenda by G77 and China countries. But most of the Annex One country or the rich government representatives here are also sort of conditioning the mind as well of people here and the negotiators that it may not happen here, it may come in two years' time or three years' time, which is effectively what Glasgow produced, a dialogue to last for three years. And in the March today, this morning, you will see, we heard all the shouts about the need for reparation, the need for compensation, the need for loss and damage finance, the need simply for the northern countries to say that put your money where your mouth is. And that's a sad fact here, because it seems many will go home without that climate funding in reality. And you've also mentioned that this cop is happening at this junction where you have a war, where you have a lot of people reeling from the cost of living crisis. And governments are saying that we have this and that problem, and climate seems to be less and less of a priority. But people here are shouting that climate is more important than ever, because for southern countries, the problem is already felt. Many southern countries, they're even saying they are beyond adaptation, because for many countries, all these droughts, floods, all these are happening now, like what happened in Pakistan a month ago. So what we will come home with seems to be a memory again of the goalposts being put forward again and broken, unfulfilled promises, while in the leaders' meeting, many of the governments of the north, including the UK government, who said they are tripling climate financing, but actually no new money are coming. These are old ODA money, and at the same time, we're also saying if they're looking for money, it is very clear where the money should come from. It should be taxing. Just even the big five fossil fuel companies, even the big five oil companies, because even if you just put ExxonMobil, BP, Shell, Chevron, and Total, these five companies alone emitted 11.2% of the emissions. And here, again, like in Glasgow, 600-plus lobbyists are in the sessions attending. And one thing that we note as well, there are many delegations that have a peculiar ID called party overflow. So they can be researchers, they can be advisors, and some of them are also fossil fuel lobbyists. So I wanted to be hopeful. We wanted to keep our energy going, but we also wanted to look at the reality in the face. Because apart from the words that says global change, climate change is a global problem that needs global solution, the reality is there are conflicts. And those conflicts are very, very difficult to overcome because these are real conflicts. There are real economic interests at stake here. And the northern countries, the rich countries are not budging. The U.S. also talk about promises, talking about how Africa can adapt and adaptation funds for Africa. But in reality, those are just new investments. Those are new ways to fund this or that investments instead of saying this is climate finance. This is new and increased money for climate adaptation. But instead of calling it that, they're doing all these bilateral meetings and promising southern countries for more investment, more this and that, and not really delivering on the climate finance as it's needed. So, dear friends, it looks like we still have many more years ahead to fight this difficult and good fight as well. This morning, there were hundreds of people walking in the venue with all the flags saying death cancellation, climate reparations, climate finance now, loss and damage. If they don't deliver, we'll just need to shut them down. And the good part is that, okay, we are here, we are in unity. We know what is needed to be done, but many of the governments that are here are not in the same understanding or not in the same preparation or same level of action. And we know this sad story and this is continuing. So, I will just say we brace more years of fighting. We build this Earth Assembly further because the mechanism for global governance on climate is in bad need of reform and we need to push it to reform. Or we need to say, if you can't do it, then look for some other process. Otherwise, we're not happy anymore for your failures, for your failure in delivering your promises or just giving promises without real actions. So, thank you very much. And I hope you have a good rest of the discussion there in Firenze. Thanks so much. Thank you very much, Dottie, for this presentation. And now, I will pass the speech to Rami Shat, which is an Egyptian friend now in exile. But before to pass him the speech, to give him the floor, only to tell you that maybe you know that the COP, the Conference of Parties, are organized in different parts of the world. And one day it's in America, another day in Europe, in Asia, and now it's in Africa. To be in Africa, it's a very good thing. And it's important to focus a little bit on the situation of this continent. But the country this COP is now is hosted by a specific country, Egypt, which is not nothing for human rights. And it's important to hear the voice of the people who suffer the Egyptian situation. Rami Shat, you have the floor. Thank you very much for having me in the Assembly. My name is Rami Shat. I'm an activist in mid-2019, tens of soldiers, armed soldiers, attacked my home after midnight in Egypt. We call them midnight visitors where they don't show a warrant. They don't show who they are. They arrested me and my wife, confiscated my house and my belongings. My wife is French. They deported her without even giving her the right to contact her consulate. And I was forced to disappear. They took me, handcuffed me, blindfolded me, threw me in a dungeon attached to a wall for days. And then I was taken in arbitrary detention for two and a half years under interrogation, in which I never, my case, there was no case. There was no legal framework. I was not tried. I was not even allowed to see my lawyers. I have seen people, thousands of people in Egyptian jails, activists from all sorts of walks, journalists, politicians, but thousands and thousands of normal Egyptian people who were arrested just because they were stopped in the middle of the street, their phone confiscated, their Facebook account checked for a joke or a note against the regime that was enough for them to be arrested and thrown in jail as terrorists. I was accused in my only one interrogation through the two and a half years for 45 minutes, where an interrogator, security interrogator, i.e. a security officer with an interrogator suit, asked me about my opinion in the revolution and who did I vote for. and when I got angry, why was I arrested? He said, okay, we're accusing you of being of a terrorist organization. I laughed because I know that this is the cocktail accusations they use against all activists. And I said, what terrorist organization? He said, well, we cannot tell you. And we're accusing you of spreading rules and lies against the state using social media networks. And I laughed again and I said, I'm a known activist and I even never use social media. I don't even have a Facebook account. He said, okay, how do you appear to people? You're a known activist. I said, well, sometimes on TV. He said, okay, we'll change the charge. This is the kind of accusations that 60,000 Egyptian political prisoners today are rotting in hell, systematically being abused, systematically being tortured, and every single state security parameter next to a police station in Egypt, that's a spot for forced disappearances. And forced disappearances are places where people have no idea where they are, where their lawyers, their families don't know where they are, where the government even refused to acknowledge that they hold you. That's the place where every day from 9 p.m. to 5 p.m. there's a torture party that people get abused, electrified for the lamest reasons. People being destroyed and humiliated in jails. their families get shattered. And this is the kind of republic of fear that has been created in Egypt since June 2013, when our previous head of military intelligence took over country by power and became the so-called president for eight years now, turning the country into a reign of fear where parties cannot operate, where NGOs are dissolving themselves because they're being confiscated, their money and assets have been frozen. People are being banned from traveling. And in the middle of that, we're today giving Egypt or this regime the hosting of COP27. We're very worried of the greenwashing effect of that at the time where people are still rotten in jail, where as we're speaking now, thousands of people are being arrested because the government are worried of people's demonstrations. Demonstrations are illegal and considered an act of terrorism. Freedom of speech is illegal. Media completely has been confiscated. All Egyptian media today is controlled by military intelligence. And the ones who are not are being banned. 650 media websites are banned from operating. At that same time, today, in Egyptian jails, being accused as terrorists for their activism, Mohamed Amasha, a known green activist, and Dr. Fatin, a known green activist, both of them at the time where Egypt is hosting COP, are rotting in jail because of their green activism. There is absolutely no climate justice without social justice. We need your support. We need your call and to be our voice in calling for the freedom of political prisoners in Egypt. There's absolutely no way that this country and this regime should be hosted such a grant. This is only being used for its international legitimacy and for possible financing in a time where the economy is completely ruined because of army control on it. We have to be very aware of the linkage between human rights. Climate is, in essence, a human rights of our next future and next generation. It cannot happen in a country that suppresses its own people currently their human rights and their ability to talk about their future. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, Rami, to have been with us and to give this very emotional and important testimony. And now we will go to another continent in Latin America and we will hear Pablo Solon. Pablo Solon is an old activist who was important in the birth of the World Social Forum, but he was also a minister and a responsible of the Bolivian government after the first victory of Evo Morales. And he was ambassador of Bolivia in the UN system and he was negotiating in the COP on the name of the Bolivian plurinational state. Now, Pablo, you have the floor, but before I want to tell that you are one of the most important person who promotes this idea of Earth Assembly and it's very important for us to hear you and to have an idea of what is this project and what we can do together. Thanks a lot. You have the floor, Pablo. Muchas gracias. Un saludo muy fuerte a ustedes en Florencia y a todos quienes están también en Shalmashayk. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Es un accidente o lo que estamos presenciando es el fracaso de 30 años de negociaciones de cambio climático en las Naciones Unidas? Después de haber seguido las negociaciones en Copenhague, yo creo que el resultado que estábamos viendo ahora se lo pudo haber previsto ya en Copenhague y Cancún. El acuerdo de París no va a resolver el problema. Es imposible porque es un acuerdo voluntario donde los países simplemente dicen lo que van a hacer y si no lo hacen, lo pueden cambiar. Y actualmente, todas las contribuciones de reducción de gases de efecto invernadero son menos de una décima parte de lo que se necesita para contener el incremento de la temperatura por debajo de 1,5 grados centígrados. ¿Por qué la COP, por qué la Conferencia de Cambio Climático actúa así? Por un lado, ya lo mencionó Doty, la gran presencia de las corporaciones, de las grandes transnacionales petroleras vinculadas a los combustibles fósiles. En segundo lugar, tenemos los gobiernos petroleros que han capturado esta COP y van a capturar la próxima COP, que será en Emiratos Árabes. Pero también tenemos los gobiernos, gobiernos que pueden tener un signo de derecha o de izquierda, pero que a último momento se niegan a tomar las medidas necesarias para salir de los combustibles fósiles, porque la situación puede ser problemática para su reelección en el gobierno. Entonces, tenemos un sistema de Naciones Unidas capturado por la lógica de las corporaciones y capturado por la lógica del poder. Yo creo que si no empezamos a construir algo desde abajo, que unifique a todas las luchas que se están dando, no solo por la justicia climática, sino contra el extractivismo y contra todas estas formas de explotación de la naturaleza, no vamos a poder cambiar el curso de la situación. Esta es la idea, esta es la propuesta de Asambleas de la Tierra. Es algo que viene ocurriendo con otros nombres. Cuando se lucha por territorios libres de minería en Ecuador, cuando se saca de ciertas zonas de la Amazonía a empresas que están contaminando los ríos, se está empezando a ejercer el poder local. Yo creo que la lucha por el cambio climático se la tiene que ganar a nivel local, porque solo así vamos a tener una fuerza suficiente como para poder cambiar a nivel nacional y a nivel internacional lo que son el sistema de negociaciones de las Naciones Unidas. Para que cambien las Naciones Unidas de fondo, no puede haber una representación solo de gobiernos. Tiene que haber una representación efectiva de la sociedad civil también en igualdad de condiciones. Y también tenemos que incorporar a la naturaleza como parte de quienes deciden en estos procesos en los cuales, sobre todo, está la suerte de la humanidad, pero sobre todo también de la naturaleza. Yo creo que lo que pasa en las Naciones Unidas es lo que ocurrió con la Liga de las Naciones después de que no pudo evitar la Segunda Guerra Mundial. Una crisis tan grande como la que se está viviendo a nivel ambiental, a nivel climático, está mostrando la necesidad de una reestructuración total del sistema de las Naciones Unidas. Estoy convencido que va a tener que salir un nuevo proceso de reconducción para que podamos tener COPs que no se realicen en países con detenidos políticos, con conculcación de derechos humanos. y este es el camino, este es el llamado de construir asambleas de la Tierra desde abajo para ir cambiando desde los cimientos aquello que nos permita enfrentar la crisis climática y abrazar lo que todos queremos, que haya justicia climática y se restablezca el equilibrio del sistema del planeta Tierra. Muchísimas gracias. Muchas gracias Pablo, muchas gracias. Y ahora vamos a escuchar un otro amigo de América Latina que se llama Zé Correa, un amigo de Brasil que vive en San Paolo y que fue uno de los iniciadores del Foro Social Mundial hace más de 20 años, y que está también muy metido en la Asamblea de la Tierra que organizó un segundo foro Panamazónica en Belém en este junio. Zé, tienes la palabra. Gracias Christophe. Saludos desde Brasil a toda la gente que está en Florencia, en Charmant-Sheik y por toda parte. Estamos saliendo en Brasil de una situación muy difícil, en especial para la Amazonía, donde en los últimos años creció mucho la destrucción de los bosques, de los ríos, de todas las formas de vida. Nosotros tuvimos en Brasil con el gobierno negacionista de Bolsonaro más de 700 mil muertos por la COVID. Nosotros tuvimos una gran agresión contra los pueblos originarios, en especial los pueblos indígenas que desde sus territorios resistieron a la agresión y defendieron con sus vidas los bosques, los ríos, todas las formas de vida. Pero en este proceso tuvimos un gran crecimiento de la deforestación, la pérdida solo en el último año de 13 mil kilómetros de bosques. La fragmentación de los bosques, su degradación, sequías cada vez más fuertes, el fogo por la pecuaria, la agricultura agroexportadora. Y con eso los bosques se volvieron fuentes de carbono. Dejaron de secuestrar el carbono, que es la gran tarea, la gran contribución de la floresta, de los bosques de la Amazonía para el equilibrio global del planeta. Entonces, con eso los científicos nos dicen que hasta el fin de esa década, hasta 2030, nosotros vamos a tener en la Amazonía una de las tres regiones del planeta. Con el Mediterráneo, el sur de Estados Unidos, también la Amazonía va a ser una región donde se va a ultrapasar los dos grados en relación al que era la temperatura mediana antes del siglo XX. Entonces, esa situación ha cambiado en el terreno político. La derrota del Bolsonaro con una gran frente antifascista en Brasil nos da la esperanza de que con el gobierno nula esto cambie. Pero esa frente es una frente heterogénea. Y la cuestión de las políticas hacia la Amazonía brasileña son objeto de peleas entre los diferentes componentes de esa frente. Saben que la Amazonía brasileña es más de la mitad del conjunto de la Amazonía sul-americana. Entonces, lo que va a pasar en Brasil es decisivo para el destino de los bosques, de los pueblos, de todas las formas de vida de esa región. Hay una presión de las grandes corporaciones. Hay dos presiones básicas. Hay una presión de una expansión de las actividades predatoras, del crimen organizado, de la minería ilegal, pero también hay una presión desde las grandes corporaciones. Y en eso la presión va a seguir hacia el gobierno nula. De las corporaciones, no solo agrícolas, de ganadería, de la gran minería, pero también las corporaciones financieras, el que ya habló de Dorothy. Y tenemos para conducir esta pelea en Brasil, construir una gran alianza global, una coalición no desde los gobiernos solamente, pero principalmente desde los movimientos organizados, desde la sociedad civil. Solo eso puede tratar de temas como el comercio, las formas de consumo, el modelo de organización de la economía de conjunto. Bien, desde esa perspectiva de construcción de una gran coalición de movimientos por la justicia climática, es que las Asambleas por la Tierra pueden tener un rol similar al que tuvo hace 20 años el movimiento altamundialista, el movimiento por una otra globalización. Eso hoy es inseparable de esa pelea por la defensa de la naturaleza y de todas las formas de vida. El que planteamos desde Brasil es que la pelea que vamos a tener dentro de Brasil en nuevas y muy mejores condiciones va a ser parte de la pelea que todos nosotros vamos a tener que conducir por todas las partes. Eso es el mensaje que queremos transmitir desde Brasil. Y bien, saludos y con la esperanza de que vamos a tener días mucho mejores a pesar de la peor general que nos espera en los próximos años de las condiciones de salud del planeta. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, de Corea. And now, we will have the last speaker for this Earth Assembly. He will talk from here, from Florence, and Luca Sardo, who is one of the spokeperson of the Friday for the Future in Italy. He will give us some ideas, some reaction at the assembly and the speech. He was listening with all of us. Welcome, Luca, and now you are the last speaker for this Earth Assembly. Grazie mille. Grazie a tutte le persone che hanno parlato prima di me, che hanno dato degli spunti molto interessanti su cui riflettere. Hanno portato delle testimonianze in prima persona davvero toccanti. Ci sono tanti attivisti anche del nostro movimento in questi giorni a Charme Sheik e tutti quanti condividono un po' il sentimento che è stato espresso anche dalla delegata poco prima e cioè che queste Coop rischiano, col passare del tempo, di diventare luoghi in cui le decisioni sono ancora più labili, ancora più morbide del passato. All'anno scorso, per la prima volta dopo 26 Coop, è stata menzionata la parola combustibili fossili in un report finale della Coop. Vuol dire che per 25 volte non si era mai parlato di combustibili fossili e quindi è probabile che in futuro queste conferenze, soprattutto visti anche i luoghi in cui si tengono, possano essere ancora meno efficaci. Infatti spesso si dice che i risultati principali delle Coop si sono ottenuti nei momenti in cui c'è stata una grande pressione della società civile intorno a questi eventi. Io credo che questa cosa sia fondamentale ed è importantissimo riuscire a trovare altri modi per mettere pressione, per creare una risposta dal basso durante questi eventi, durante le Coop. La prossima sarà negli Emirati Arabi Uniti, che come il Qatar sono uno dei primi dieci paesi al mondo per emissioni di CO2 in rapporto alla popolazione e anche lì ovviamente sarà molto difficile protestare, nonostante alcune persone, anche rischiando in prima persona, cercheranno di farlo e in questi giorni, proprio oggi, anche a Sharm el Sheikh, diversi attivisti si sono ritrovati per manifestare all'esterno della struttura e tra l'altro oggi in tutte le città del mondo, a Torino da cui vengo io, così come a Milano, a Roma e in giro per il mondo, ci sono delle manifestazioni per chiedere la liberazione dei 60.000 prigionieri politici di cui si parlava prima, tra cui Al-Abdel Fattah, che vorrei ricordare qua, è in sciopero ormai della fame e della sete per portare l'attenzione sul greenwashing che l'Egitto sta facendo in questi giorni. e quindi una proposta che ho sentito diverse volte nel mattinata parlando così con persone che sono qui e in parte anche ripresa dai discorsi, potrebbe essere quella di immaginare un follow-up, un nuovo passo di questo percorso di cui oggi si fa una tappa importante che potrebbe tenersi magari l'anno prossimo, magari proprio durante la prossima COP, la COP28, e in cui costruire una specie di contro-evento con tutti i delegati, con tutte persone dai vari continenti per dar voce a chi ovviamente vive già oggi la crisi climatica sulla sua propria pelle e in cui costruire quella risposta dal basso e collettiva che altrimenti in questi spazi, secondo me, diventerà sempre più difficile far sentire. E quindi chiedo a tutti voi di appunto continuare a lavorare insieme e far sì che alla prossima COP la risposta magari il cambiamento vero venga da qui invece che da Dubai. Grazie mille. Grazie mille. Aspetta solo un secondo. Ok, friends, that was the last speech of the Earth Assembly. Now we are finishing that. Thanks a lot for being there. Thanks to the interpreters who allowed us to have five languages which is great during this event. intanto chiamo sempre chiamo la presidenza oltre a Raffaella Bolini che già c'è dell'Arci a Nicola Ballard di Attack France al sottoscritto Piero Bernocchi portavoce della Confederazione COPAS ci manca e spero che ci sia perché Lucia Lucia Barsena Lucia Barsena del Transnational Transnational Institute che però non è in sala e che però arriverà si aveva avvertito che arrivava un po' più tardi quindi intanto e poi dovrebbe venire Jan quando può visto che ha coordinato tutto il webinar più tardi intanto facciamo noi andiamo ecco ok per questa sessione vi proponiamo delle domande ovviamente saranno parecchie non potrete rispondere a tutti scegliete voi che cosa vi sembra più interessante a partire da due domande fondamentali due macro domande Tommaso Fattori e stamattina nell'introduzione ha detto che noi vent'anni fa denunciammo con largo anticipo le malefatte della globalizzazione liberista che avevamo ragione su tutto e ha ragione però c'è una seconda cosa invece negativa che a trarre vantaggio in Europa di questa denuncia della globalizzazione non siamo stati noi non è stata la sinistra né moderata né radicale ma è stata la destra e la destra estrema come è potuto succedere questo come mai sta succedendo e la seconda macro domanda ovviamente che cosa possiamo fare per limitare o addirittura per battere il consenso della destra che è molto ampia il sondaggio di oggi per quel che riguarda la Meloni la dà al 30% da queste domande ne scaturiscono alcune più specifiche e per aiutarvi a rispondere partiamo da questa considerazione Giorgia Meloni in brevissimo tempo in Italia è passata dall'1,3% a circa il 30% questi fenomeni in Italia ormai succedono normalmente cioè mandiamo modelli schifosi politici in tutto il mondo Berlusconi ha fatto la stessa scesa in poco tempo lo stesso è successo a Salvini e alla Lega lo stesso è successo ai Cinque Stelle quindi non ci sorprendiamo più però l'aspetto sorprendente è la crescita enorme del modello Meloni a livello europeo come mai a livello europeo viene diventa lei il modello per Vox il modello per Le Pen il modello per gli ungheresi il modello per la destra polacca il modello addirittura per i seguaci di Trump negli Stati Uniti e l'ipotesi che vi proponiamo è che Meloni proprio in quanto erede del fascismo proprio perché è il copyright del fascismo tradizionale del modello reazionario europeo è riuscita in breve tempo a presentare una proposta organica di attualizzazione del fascismo però rinnovandole attualizzandolo cioè rendendolo popolare oggi non quindi il fascismo di ieri presentando un copyright originale per aiutarvi a interpretare questo soprattutto per chi non è italiano e quindi forse non conosce perfettamente la summa del pensiero meloniano vi do alcuni stracci di quella che è proprio una vera e propria Weltanschauung visione del mondo da parte di Meloni il filone base del pensiero è quello del culto della stirpe la chiama esattamente così del sangue della nazione intesa non come realtà storica e geografica ma come insieme di razza etnia religione unica e cultura compatta sentite questo brano l'attacco alla stirpe dice Meloni e alla sua identità viene da un mondo variegato tutto ciò che ci identifica è sotto attacco è sotto attacco il senso del sacro la famiglia l'identità sessuale la spiritualità le radici cristiane i confini delle nostre nazioni la nostra storia processata vigliaccamente dalla cancel culture e questo è attuale la nostra libertà di espressione censurata ogni giorno nella vita reale sui media e sui social network dalla dittatura del politicamente corretto è assolutamente moderno contemporaneamente questa in questa visione Meloni indica chi sono i nemici e guarda caso i nemici sono i nostri amici quelli che per noi erano l'aspetto positivo vent'anni fa della globalizzazione chi sono questi nemici è la modernità ma la modernità intesa come globalizzazione nel multiculturalismo il nemico è il meticciato è l'intersezione e la mescolanza di culture etnie religioni e stirpi indicate tutti come nemici perché attaccano l'identità l'identità dice Meloni è il terreno di scontro fondamentale del nostro tempo l'identità è il principale nemico del mainstream globalista e si porta presso su questo tutto questo schieramento europeo che aspetta il suo trionfo governativo per trionfare nei propri paesi e quindi credo che alcuni di voi sono sicuramente qui non soltanto per solidarietà al fascismo che ci attacca in Italia ma per il timore che questo fascismo cresca anche da voi ancora di più di quello che già è e allora la domanda è questa possiamo ipotizzare che la ragione principale del successo dell'ultradestra in Italia e in Europa sia che al contrario di quanto facemmo noi che contro la globalizzazione liberista proponemmo cose certamente di grande valore ma anche molto complesse di difficile realizzazione con tempi lunghi l'altro mondo possibile era una proposta affascinante ma molto complicata invece questa ultradestra presenta una cosa maledettamente semplice risposte semplici praticabili subito l'identità nazionale l'identità culturale l'identità religiosa la stirpe la famiglia tradizionale la chiusura contro gli esterni contro tutto quello che viene dall'esterno quindi la chiusura nei confronti dei migranti in altri tempi il rifiuto della diversità quindi una visione del mondo di chiusura ma nello stesso tempo praticabile comprensibile e da questo punto di vista c'è una specie di viene proposto contemporaneamente una specie di visione da impero romano nella decadenza perché c'è una seconda ipotesi su cui sta lavorando quest'ultradestra noi diciamo una cosa apparentemente semplice e facile la colpa della destra che cresce in tutta Europa è della sinistra che non fa la sinistra però personalmente ho imparato in 56 anni di attività politica che in politica il vuoto non esiste e allora non si capisce come mai a livello europeo in tutto questo vuoto non sia cresciuto una sinistra altrettanto forte altrettanto capace di rispondere alla globalizzazione l'ipotesi è che sia scattata a livello popolare una cosa che già scattò nel secolo scorso che cosa succede quando un popolo dei settori popolari perdono la speranza di migliorare la propria condizione la propria posizione quasi sempre prevale la paura di peggiorarla scatta cioè la sindrome da impero romano patrizi e plebei insieme perché l'impero sta decadendo e arrivano i barbari fermiamo innanzitutto i barbari e non è solo fermiamo i migranti fermiamo tutte le ideologie che stanno distruggendo il nostro senso comune quello che ci tiene insieme questo discorso è estremamente forte e non basta dire se ci fosse stata una sinistra eccetera eccetera è una cosa molto più complicata è una visione del mondo profonda allora se questa questi questi discorsi che sto facendo vi convincono abbastanza ne devono scaturire delle conseguenze per noi cioè noi dobbiamo fare un ragionamento analogo chi è che viene attaccato frontalmente da questa destra chi è che rischia di perdere quello che ha io non credo che la battaglia principale almeno in Italia ma non credo neanche in Europa avverrà sulle politiche economiche perché le politiche economiche dell'ultra destra seguiranno per disseguamente le politiche economiche liberiste che già ci stanno non sarà un grande cambiamento e neanche sul bellicismo ci sarà un grande continueranno quello che c'è ma invece ci sono dei settori che verranno attaccati frontalmente innanzitutto la scuola chi ha seguito le ultime vicende italiane ha già capito che vogliono mettere le mani sulla scuola perché a scuola si ricostruisce una cultura vogliono ricreare in Italia ma credo anche in Europa ricostruire la storia dell'ultimo secolo vogliono ricostruire da lì ripartendo dal fascismo storico come sono andate le cose e la scuola è un elemento decisivo noi abbiamo assoluta necessità a livello europeo di ricostruire una rete dentro le scuole per le scuole per gli insegnanti per gli studenti unitari ma c'è dell'altro sicuramente ci possiamo aspettare una forte regressione una forte non mi aspetta siccome c'ho poco tempo poi fate un applauso generale tutti insieme se vi va poi se non vi va non lo fate non importa una forte regressione sul piano dei diritti civili complessiva su questo ci sarà un attacco e verrà attaccato gente che magari sul piano economico non reagisce ma su queste cose è disposta a reagire fermo restando e bisognerebbe reagire anche sul piano economico ci saranno forti tentativi di ritorni indietro sui diritti delle donne e non vi fate incantare da lei che dice ma no la meloni ma l'aborto non lo toccheremo no saranno proprio un attacco frontale riportare indietro i diritti delle donne di 30 40 50 anni eppure di più ci saranno sicuramente politiche ostili frontalmente alle comunità lgbtq questo è già stato detto queste cose vanno ripristinate della famiglia è quella classica tradizionale eterosessuale eccetera ci sarà un attacco frontale e dei giri di vita frontali anche nei confronti delle manifestazioni di piazza le manifestazioni conflittuali intendo ovviamente ci sarà una recrudescenza delle ossessioni securitarie delle norme giuridiche contro le opposizioni ci saranno tentativi di modifiche costituzionali e verranno attaccati anche i diritti dei carcerati già ce ne abbiamo degli elementi fondamentali in Italia ma a livello generale e ovviamente contro le lotte ambientaliste e climatiste tutto questo fronte ce lo possiamo aspettare e quindi dobbiamo è un nostro dovere su questi punti trovare la possibilità di costruire a livello europeo perché non se ne esce io credo a livello nazionale non se ne esce a livello settoriale però noi abbiamo il dovere di costruire ricostruire delle reti delle coalizioni e delle convergenze su ognuno di questi temi e farle convergere globalmente io credo che la risposta positiva che c'è stata oggi ci dice che questa esigenza la sentite tutti dopo vent'anni in cui abbiamo perso tante volte questa speranza ce l'avete e ce l'abbiamo lo dobbiamo fare io credo insomma per concludere che se siamo d'accordo che non se ne esce a livello nazionale a livello settoriale il nostro dovere assoluto è da domani e nell'ultima riunione che faremo domani tracciare le linee per costruire appunto delle convergenze delle coalizioni delle alleanze su questi temi sui temi indicati e su altri per ottenere insomma quelle trasformazioni che puntavamo ad avere vent'anni fa su cui non siamo riusciti ad andare avanti significativamente giovani e meno giovani o diversamente giovani che mi piace di più ci dobbiamo trovare insieme con la speranza in particolare però che i nuovi arrivi giovanili siano più bravi di noi riescano a fare quello che noi siamo stati capaci di fare in questi anni e ci diano anche qualche buona lezione io questo mi auguro questo spero e con questo vi ringrazio l'attenzione e lascio la parola agli altri ok thank you thank you very much and please I'm calling Isabel Leboris from French Human Rights League La Ligue des Droits de l'Homme and for up I give you not here if you can come here yes and I give you the mic hi hi everybody so the question we're asked in this session is how to beat the consensus that prevails in favor of the right-wing of the right-wing in our societies in the short time I have as a representative of the French Human Rights League I will share with you a human rights approach used as a reading grid to characterize the various political thinking that structure the political offers in our societies I'll then derive from this a few observations that could guide the course of action of our progressive movements so to put it simply there are three ways political offers link the people and their effective access to rights the answer that I believe is shared by all our progressive forces is we want to live in a society that provides access to political economic social environmental and cultural rights that is to say all the fundamental rights to all the people effective access that is not only on paper another answer that would make for a completely different society opposite in values is to consider that all rights should accrue but not to all in most cases this type of answer sets out an identity criterion that excludes part of the people who are considered illegitimate to access rights including economic and social rights this is what underlies the populist far-right approach with a diversity of nationally set criterion to determine desegregation and the third answer is provided by the dominant neo-liberal thinking which claims the role of institution isn't to effectively ensure equal rights but to provide equal opportunities to people effective access to rights supposedly results mostly from individual behaviors and is not a responsibility of public policies so what does this three-fold perspective mean for us it means we have two consensuses to beat and not only one as the initial question implied the far-right one and the conservative liberal one those two enemies need to be fought with the specific narratives corresponding to the specific threats each of their approaches poses to our societies so how do we do that how do we take over the cultural hegemony in the people's minds knowing that of course the situation the balance of forces inside society varies greatly from country to country well we think that two guiding principles can help us set stable benchmarks in the people's minds help them understanding the issues at stake and the desirable policies firstly there is no convergence possible between those who ask for social rights but not for all and our perspective of all rights for all in other words we must ban any alliance even tactical spots or technical with the far-right and fighting the conservative liberals this is this is not a moral imperative of some sort it derives logically from the very nature of the far-right society vision which is antagonistic to our societal project based on the effective universality of rights secondly the capacity of the all rights for all approach to progress in society is decisively more favorable when the far-right and the neoliberals are not in an alliance direct or indirect for the alliance always accelerates the far-right deadly agenda this should make us design our narratives so as not to legitimize such alliances now back to the how the main issue we're facing here is to rebuild the legitimacy of a progressive project that articulates democratic civic social economic ecological and cultural answers to provide effective access to all rights for all this perspective needs to rely on the action of four actors social movements organized civil society trade unions and political parties each of those actors is being differently appreciated and criticized by people who attribute differing strength to each if we understand one if we understand that one issue is key we have to combine our respective legitimacy to build a progressive consensus in the public eyes we need to rely on one shared perspective mobilizing those four stakeholders it is a crucial condition in order to bring hope and it is also a practical necessity since reaching out to people reconnecting them around a progressive inclusive agenda will take multiple paths Thank you Merci Isabel the next speaker is Albina Asmanova who is from the Brussels School of International Studies at the University of Kent Thank you Albina thrilled to be here hello so we are asking how to break the consensus for the far right first things first we have to admit that many of those who join far right parties and movements have a valid grievance it might be hard for us to say it but we have to start here these people feel vulnerable socially economically politically and culturally they feel that vulnerability comes from many sides there these are pressures that these people do not know how to handle indeed a pandemic of precarity has hit our societies and in my work I have described I've studied precarity I've described it as a very special fragility that is rooted to a great extent in the insecurity of livelihoods insecurity of our jobs our investments our ways of survival of financial and economic survival and this once our livelihoods are unstable we experience this as incapacity to cope we live under fear of losing it all and the right unfortunately has established a very firm monopoly on the values of security stability safety and and the left doesn't have a language to talk about that but more than a language we need a plausible policy program on how to give answers to this stabilization that people want the right we know gives very easy shortcuts into designating an enemy order and security measures so what can the left offer first of all there is no mystery in this we know that this fragility this precarity is politically generated it is politically generated through policies and politics and ideologies that are very well familiar the short story is under pressures of remaining competitive in the globally integrated capitalism that center left and center right forces engineered over the past 40 years in this ocean of competitiveness of crude competition to remain competitive government started to slash public spending and destabilize jobs so what do we do it's very it's obvious what do we do we push back the responsibility to states to insulate the most important spheres of our society from these competitive pressures public health care you cannot have a consideration of profit making in securing the public health care for instance what else some of the most precarious people nowadays in European societies are the self-employed in many countries we don't have basic unemployment insurance for the self-employed why don't we do something about it but none of this would be plausible if we do not re-engineer recast recraft globalization with very stringent environmental and labor standards so that we can reduce these competitive pressures that are generating all these policies this is what I have to say today thank you very much Albina I'm calling now Papadio Hurete from Antifascista Firenze welcome buonasera grazie molto felice di questa sala purtroppo questo nostro incontro accade in un momento molto particolare almeno per quelle che riguarda l'Italia e il tema delle immigrazioni durante i vari social forum mondiale da Genova a Nairobi Firenze in Grecia almeno dentro il social forum il gruppo che si occupava di immigrazione frontiere già tante cose che oggi i vari governi europei stanno tentando di mettere di applicare li avevamo già denunciato al social forum di Atene nel duemilasei molti di voi se li ricordano le politiche di detenzione all'epoca e avevamo organizzato ad Atene mi ricordo una grandissima manifestazione contro i campi di detenzione ieri qui nell'ambito del social forum sono stato a guardare un documentario girato nel campo di Moria è veramente una cosa terrificante e questo accade in un momento particolare dove in Italia abbiamo un governo di destra una destra molto aggressiva che nonostante tutti i problemi una delle prime politiche il decreto del 4 novembre dei porti chiusi dove intimavano la nuove humanity e altri di sostare fuori dalle acque italiane quel decreto di per sé viola diverse convenzioni internazionali non è un caso e di dubbio costituzionalità all'ASD sta promuovendo tra l'altro un appello che invito tutti a firmare perché questo decreto non è migliorabile va ritirato e questo è una cosa in cui dobbiamo vigilare e per la prima volta siamo assistenti a un nuovo linguaggio che ricorda i periodi più dell'Europa uno sbarco selettivo si selezionano le persone non si sa in base a che cosa e chi li seleziona e l'altro fatto quando un ministro si riferisce a delle persone parla di carico residuale quindi non si parla più di essere umani ormai di carico residuale quindi una parte scende il carico è residuale lo dovete riportarvelo a mare oppure dove vi pare piace questo è il nuovo linguaggio proprio senofobo però il trio Piantedosi Salvini e Molini spesso sono le prime tre persone più senofobe e poi sono contro ogni tipo di diversità su questo lo sappiamo vent'anni fa noi non ragionavamo soltanto di chiusura delle frontiere c'erano le lotte di politiche sul diritto di voto per il discorso dei stranieri il diritto di voto è sparito la partecipazione politica è sparita tutta una serie di temi di contenuti politici in cui noi eravamo portatori ormai sono stati svuotati dei loro contenuti io penso che dobbiamo ritrovare la capacità che avevamo vent'anni fa di contrastare perché quando si tratta di diritti umani che queste persone questo governo ci vuole riportare ai tempi bui dove i diritti vengono calpestati definendo persone cariche desiduali violando ogni tipo di convenzione e poi hanno inventato questa narrazione che è molto pericolosa perché guarda che le ideologie sono molto pericolose ecco perché quando qualcuno parlava della scuola sono molto d'accordo perché l'ideologia va contrastata attraverso l'istruzione bisogna ripartire dalla scuola e ripartire dai territori noi perché a un certo punto anche noi abbiamo smesso quello che abbiamo sempre fatto le scuole le case del popolo i territori quando ovunque ci sia movimento politico dobbiamo essere dobbiamo ritornare avere quella capacità anche ahimè invecchiamo anche noi vent'anni fa non abbiamo più la forza che avevamo per fortuna ci sono i giovani oggi che possiamo sostenere perché è il momento di vigilare i suoi diritti sensibilizzando addirittura le istituzioni locali che hanno smesso di occuparsi di immigrazione perché se vi ricordate bene noi abbiamo un'ottima legge sulla participazione peccato che non è applicato discorso di i bambini nati qui è stato svuotato del contenuto questo ma è una cosa veramente impresentabile io forse per me quella cosa così come non andrebbe presentato perché questo non è rispettare addirittura Salvini che non hanno preso buoni voti alla maturità pretendono che per essere italiani deve avere buoni voti ma guardate che follia proprio e quindi noi su queste cose qui dobbiamo presidiare perché i diritti sono minacciati e questo discorso perché finendo questo attaccheranno le ONG l'obiettivo loro sono le ONG chiudendo i porti non si sbarca inventando una narrazione perché noi dice abbiamo ricevuto dagli 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 italiani eh di no sedici cominciamo diciamo sedici milioni vi hanno votato non tutti gli italiani noi non abbiamo votato i fascisti che sono il governo quindi questo blocco navale di cui parla effettivamente parla di blocco navale ma questo vuol dire l'incompetenza e l'impreparazione guardate la Maloni non è una non ce l'ho con lei però con le sue politiche perché una donna è impreparata quando parla tocca il cappellino non ti guarda mai fisso è sempre in movimento e questo è un chiaro indicatore di dove si va a finire e si può tentenare su tante cose ma quando si tratta di diritti umani delle persone di chi ci dobbiamo difendere di donne e bambini che arrivano con i loro bambini morti e allora occorre vigilare perché i diritti in generale sono minacciati dalla presenza delle destre una destra aggressiva non soltanto in Italia ma in tutta Europa quindi vigilare in modo da contrastare queste politiche in tutta Europa grazie 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 Buongiorno, buongiorno, sono molto felice di essere qui e di partecipare in questo meeting. Solidarity for All Greece è stato fondato nel 2012 durante l'economica crisi e repressione in questo country, quando la vita di milioni di persone fu fuori. As per risultato, un grande aumento del movimento Solidarity and many grassroots e initiatives across Greece sono creati, come food banks, social clinics, solidarieti lezioni, fair trade organizzazioni, support groups in refugee camps, etc. I'm referring to this experience because once again it is going to play an important role with the new economical and energy crisis which is a result not only of the pandemic but of the Russian invasion and the war between Russia and Ukraine as well. This useful experience which we have all these years is one of the ways to beat the consensus on the right in the society. In our times left and progressive powers in Europe must fight against the increase of political and electoral influence of the far right powers. So it's necessary once again to combine resistance with solidarity. It's our duty to start with people in need, the victims of the crisis and the inflation. We must stand with refugees particularly in this time when we realize that the governments in Greece in Italy and Europe travel on the international law and the international conventions. I think that is necessary that we must coordinate our actions within the social movements against the policies of austerity. The anniversary of 20 years of the foundation of the European Social Forum here in Flores is a great occasion for that. To meet and discuss about our common future and actions once again in the current situation. I believe that we must combine different demands of the movement in Europe as a unit plan against the neoliberalism and the capitalists. The recent political changes in Latin America set an example of hope. Of course here in Europe we have a different social, economic and political situation. but we can keep in mind that people need also a left and progressive wave of change. In that case we must combine different demands demand peace, demand nuclear disarmament, protection of the environment, increase in salaries and wages and also minimization of working hours. And of course we must demand the social liberation. Also we must think about new ways to fight and in my opinion it's very important in this matter to use culture, arts and music. One of the first steps and I feel the most important is that the alternative powers should revive the peace movement. Of course we are against the Russian invasion. We are against NATO which takes advance of the invasion to increase the military equipment in Europe. We don't want imperialism we must fight against all its forms. in this situation it's necessary to demand immediate ceasefire and a peaceful resolution of the Russian Ukraine issue through negotiations. We need a democratic Russian federation and democratic Ukraine as an integral part of Europe. As Solidarity for All we are prepared and ready to join forces with all the other comrades throughout the world and fight and fight for a change. Thank you for your attention. Thank you. Thank you very much. So the next it's Matthias Benick from ATAK Hungary. Welcome. Yeah. Thank you and hello everybody. I'm coming from Budapest from the nice city in the heart of central Europe. And now what I'm going to talk about is more concentrating on the region the situation many of the speakers spoke about you know the hardships the difficulties the rising of prices and all kind of stuff like that which is true and I don't want to repeat you know all of those which were told but I want to emphasize one thing the Western European movements need better the support of the central eastern European countries and not only the EU the core countries because there is a division between the movements of the core countries and the periphery this was for me it was very clear when the speakers from Congo you know stood up and emphasized their situation our situation is very close to that one not as deep of course but if you take it you know the core countries and the central eastern European countries there are very many similarities the second thing what I wanted to tell you that very few of the participants here know the history well what happened during the last 40 years and even after the second world war it is a falsification of history which is which is going on and not exact data and exact analysis about this change what happened mainly in the 40 years we have seen you know so brutal changes which the society became you know uninterested in the political debates and talks because in the reality their life is getting worse and worse and not better as it was promised you know when this change in systemic change came you know the neoliberal agenda and the media and everybody was talking about that this will be better but on the opposite it turned to the worse so I don't have too much time but I would like to highlight some points which are very important for me and for the Hungarian Social Forum because I am the active founder of the Hungarian Social Forum and we were participants in the first European Social Forum and then the 10th anniversary and now the 20th anniversary so we are concentrating on trying to bring together the central eastern European movement the cooperation which is is very important because we share the common history the so-called communist past and also we have experience of the privatization how it went on and how people lost their jobs and 30% of unemployment at the beginning right when systemic change came so I think for us it is very important the issue of the so-called the world of the labor the working people's condition and the right of the of the workers so we are initiated during a discussion a common European labor law to introduce because in Hungary even the strikes is very the strike difficult because the the law you know is restricting for instance people in the public working in the public sphere and mainly in the education are not allowed to make a strike but now there is a big big demonstrations of the teachers and the students together in Budapest they are making and not only in Budapest but in the countryside also demonstration so this is one the second thing is the UBI the universal basic income we are for the universal basic income we support that and lastly but maybe I had to mention it first that I'm also an attack man an attaki first I am the president of Hungary so we participated in the European attack meeting here and we invited the attack people to Budapest in the second half of February please come and know with your eyes our reality thank thank you very much thank you Matthias something to note in your agendas Budapest in February sounds cold to me but beautiful I'm sure the next speaker is Simone Ferrati from ACI Toscana Simone Donnie grazie a tutti e a tutti Io credo che rispetto a ciò che diceva pure Bernocchi nell'apertura, viviamo sempre di più nel tempo del rancore e delle solitudini collettive. E quella rabbia e l'indignazione che segue a questo molto spesso è stata dietro a una dimensione di indignazione che invece di prendere la strada del conflitto implode sempre di più in un risentimento individuale, in una rabbia repressa. Se nella seconda metà del Novecento tutto questo veniva in qualche modo catalizzato rispetto a una dimensione collettiva di risposta a questo disagio, oggi più che mai c'è necessità di riuscire a rinsaldare quello spazio tra centro e periferie. I tanti centri e le tante periferie dell'Europa secondo una dimensione di una nuova indagine che deve stare dietro a un'idea complessiva di avanzamento dei diritti. Spesso nelle nostre discussioni, in Italia ma non solo, andiamo ad analizzare quelli che sono i voti politici che stanno dietro alle periferie delle nostre città, dei nostri paesi. Da lì però deve riuscire a svilupparsi una reale risposta. E qui riuscire a contrapporre alle tante periferie un'idea solidale di mutualismo che parte e viene partecipata grazie alla vicinanza, alla capillarità, alla prossimità. Questo secondo me è uno degli elementi centrali e la nostra associazione, un'infrastruttura sociale fatta di circoli, di case del popolo, determina nel nostro paese un'esperienza che secondo me deve essere vissuta e messa a disposizione di un dibattito più ampio. E' la prossimità, il sentirsi parte, che ricolloca una discussione rispetto alla possibilità di una nuova riattivazione. La dimensione del riuscire a combattere quell'elitarismo delle buone ragioni che secondo me rappresenta un grosso nostro nemico è riuscire a essere nuovamente popolari, di massa, riuscire nuovamente a democratizzare un dibattito, renderlo pubblico e coinvolgente. Molto spesso l'idea e il problema è quello che andiamo sempre più a restringere. E allo stesso tempo quando restringiamo abbiamo anche la paura di essere, diciamo così, più includenti se siamo meno radicali. Bene, io credo che questa strada ha portato a un risultato che è di fronte a noi e quindi non dobbiamo avere paura nell'essere più radicali e nell'essere nel nostro società civile più politici. Questa è una dimensione che sta dietro alla capacità allo stesso tempo di riuscire a destrutturare alcuni concetti che stanno dietro a quella sicurezza portata dall'identità, si ricordava prima, rispetto a quell'idea che nell'identità io trovo la sicurezza e nella chiusura io trovo uno spazio più comodo. Bene, dobbiamo avere la certezza di riuscire a rompere quell'idea, destrutturare tutto ciò e in questo riuscire a costruire nuove certezze, nuove sicurezze che stanno proprio nell'incontro, nell'inclusione, nella socialità, nella dimensione solidale. Non è sicuramente un elemento facile e ognuno si deve sentire responsabile di una fatica di convergenza. Dico questo perché, come dire, immagino costruire questo momento è stato un duro lavoro per tutti gli organizzatori, per tutte le associazioni, per tutte le realtà. Però questa fatica deve essere una fatica che deve essere riportata nella quotidianità, rispetto a una palestra di partecipazione che rompe la passivizzazione e che ridà nuovamente una nuova determinatezza al nostro muoverci. Che cosa cambia da qui a vent'anni fa? Che molto probabilmente prima avevamo la concezione della capacità di una maggiore forza, di una maggiore capacità e di una volontà di riuscire a rispondere a tutto ciò che avveniva intorno a noi in maniera diretta. Bene, rispetto a tutto questo dobbiamo riuscire anche ad essere più inclusivi. Molto probabilmente questo è un tema che dobbiamo tornare, deve tornare ad essere una delle nostre domande principali. Al sovranismo mentale che imprigiona le persone in un'idea che il futuro non può essere che questo, famoso tema dell'ascensore sociale, noi dobbiamo riuscire a rimettere insieme alcune parole centrali che stanno sui diritti. E perché no, tra questi diritti anche il diritto all'utopia. Grazie tante. Grazie, Simone. La prossima domanda, io vorrei invitare a Melanie Goy-Gayam di Réseo Verità e Justice. Grazie. Grazie. Io mi presento, sono Mélanie. Io sono membre... All'abord, sono gilet jaune, yellow jacket, c'è il truc che che io sape dire in angolta. Io sono victime di violenza polissia e sono membre del Réseo Verità e Justice. Le Mouvement des Gilets Jaunes a débutato in 2018 Car in Francia, on souffre On souffre di precarietà In i quartieri popolari, in i campani Plus ça va, plus c'est dur On aveva tre revendicazioni Justice sociale Justice fiscale Justice climatique E per queste tre revendicazioni Abbiamo avuto in fronte di noi Un amma policier Des lois Qui aveva été mises a la base Contre les actes terroristes On été mis En place pour nous Pour nous mettre A genoux, pour nous faire taire Pour que les personnes les plus précaires De ce pays Des droits de l'homme Rentrent chez eux Mais on n'est pas rentré chez nous sans rien En 18 mois Le Mouvement des Gilets Jaunes Recense plus de 1100 prisonniers Des prisonniers politiques On n'arrive pas à compter le nombre De personnes qui ont été mises devant la justice Mais aujourd'hui on a 1100 personnes Qui sont actuellement en prison Parce qu'un jour Ils ont dit stop à la précarité On a en 18 mois E'u 32 personnes Qui ont perdu un oeil On a 6 personnes Qui ont perdu une main Deux personnes qui ont perdu un pied C'est un combat C'est un combat Que nous avons mené Pour plus de justice sociale Plus de justice fiscale Plus de justice climatique Mais avant nous Il y avait d'autres victimes Et ça nous a ouvert les yeux Sur ce que vivent Les quartiers populaires Les quartiers populaires Depuis la naissance Des quartiers populaires Ce sont eux Les vraies victimes Parce que précaires Parce qu'on ne vit pas On a chez l'ennem Quand on a beaucoup d'argent Les quartiers populaires Sont les personnes Les plus précaires Ce sont aussi eux Qui ont été travaillés Pendant la crise du corona Pendant que des personnes Arrivaient à travailler chez eux Nous Car je suis aussi issue Des quartiers populaires Et bien on a travaillé On nous a applaudis Et le lendemain On nous a de nouveau Instrumentalisé Et de nouveau criminalisé Donc Il y a le combat Des familles Des familles De victimes De violences policières De violences Dues à la gendarmerie De la violence Carcérale Car oui En prison On tue Des gens Des hommes Principalement Meurent En prison Chaque année en France Par les sous les coups De leurs geôliers Quand on a pris conscience De ça Avec les gilets jaunes Dès le départ Dès Janvier 2019 Un collectif S'est monté Le collectif Mutilé pour l'exemple Dont j'ai l'honneur De faire partie Et on a convergé Avec les familles De victimes Car c'est la même police C'est les mêmes armes C'est la même doctrine Cette même doctrine Qu'on internationalise Qui est sans doute Chez certains d'entre vous La France La France a ce Ce truc là De cette On jouit D'une On jouit D'une D'une Comment on dit On dit que notre doctrine Du matin de l'ordre Est la meilleure Du coup on l'exporte Sauf que cette doctrine Est malveillante Donc on a convergé Avec les familles en lutte Et on a créé le réseau Qui s'appelle Le réseau d'entraide Vérité et justice Pourquoi ? Car c'est la même police Nous avons le même combat Ce sont les mêmes armes Ces armes Qui sont fabriquées en France Et qui arrivent Partout en international Aujourd'hui nous demandons A ce que De manière internationale On bloque la fabrication De ces armes Nous en France On va bloquer Le gouvernement est prévenu Il n'aura plus de fabrication De LBD D'armes à feu Sans que des collectifs Comme les nôtres Se lèvent contre Aujourd'hui la France Est un pays Pour les riches Fait par les riches Pour les riches Par les riches On le voit Même pour nos étudiants Ils ont mis en place Ce qu'on appelle Le parcours sup Parcours sup C'est la première étape Pour que nos jeunes N'aient plus La possibilité De faire des études Nos jeunes En quartier populaire Sont stigmatisés Dans ce truc De parcours sup C'est écrit Qui sont des quartiers Populaires Ils n'ont pas accès Aux études Donc on nous stigmatise On nous précarise Et même quand nos enfants On aimerait les emmener Faire des études On nous bloque Toute la communication Des différents présidents Ont été très violentes A l'égard des quartiers populaires On se souvient Des karchers On va nettoyer nos cités Au karchers On se souvient aussi De ceux qui n'ont pas de dents Les sans dents Et la communication Sur les gilets jaunes Ont été pareilles Ceux qui ne sont rien Qui n'est rien Tout le monde est quelque chose Chaque humain Est quelque chose Et représente quelque chose Il ne faut pas oublier Que la gauche En France A signé A voté Pour cette mise en place De lois liberticides Des sécuritaires Qu'on bouffe aujourd'hui Ils sont tout aussi responsables Que la droite A nous Humains De nous lever contre eux Et de faire notre propre politique Le peuple sait Les politiques ne savent plus Donc à nous de nous lever On se lèvera Et on gagnera Les gilets jaunes ont essayé Et bien on recommencera partout Vive la lutte Vive les peuples Merci Merci beaucoup Mélanie C'était un très important Testimony Merci beaucoup Mélanie Donc la prochaine va être Marek Azoulay Activiste pour Minority Rights Please Come We're waiting For you Bienvenue Merci Thank you Hi everyone And thank you For including me Amongst the speeches Today It has been So inspiring It has been A great opportunity To hear people From all across Europe Working on many Different issues My name is Marek Azoulay Jørgensen I'm from Denmark But I'm also From Morocco And I'm also A minority In many different ways But today I will focus On being a minority As a young Person Just by being Young In this room In this room I'm a minority I will borrow Five minutes Approximately Of your time But I will Require Full Attention So Phones Away Look up Be here In the room Together We have been here For a full day It's not over We have had Many impressions Many expressions We have learned A lot And we have more To learn More to hear But right now We are also Under A nation We are Europe We are together Here Many different countries And we have The European Union That many of us Work with With grants Funds Different organizations But we need To change The color Of the flag From blue To green From yellow Stars To red Hearts We need A social Pillar We need To end The focus On capitalism And consumers We need We need To realize That we Can't Consume Life We can't Consume Love Safety Trust And ideas We have To push Together For circular Ideas Based on Solidarity And we have To carry The burden Together Our foundation Is strong Based on Human rights The European Treaty For human Rights But we have Democratic Backlash And constitutions And basic Human rights That are Threatened People are Fleeing On the run Activists Are prosecuted And are not Safe In our Neighboring Countries We have The EU But it's Not enough We need Help And we need To address Those important Issues We can only Do it Together We need Allies And we need To stand Together We need To get Rid of Bureaucracy We need Civil society Not working Against each Other One issue Is not More important Than the Other We can Lift each Other We need Solidarity Between Funds Between the Ecosystems Of social Innovation We need New ways Of working And we Need to Work Intersectional Intersectionally To protect Minorities While we Are including Civil society In decision Making Processes I like The quote Politics Is simply Too Important To leave Up For Politicians We cannot Let Politics Be left Up For Politicians So we Need To support The Current Generations Of Activists Who are On the Edge Of a Mental Breakdown We cannot Carry Anymore On our Shoulders The world Will always Be crazy Chaotic And we Will always Have crisis But we Also have Old Generations Of Activists So I Ask you To work Together Different Generations Of Activists That's the Only way We can solve The issues That we Are facing So now Close your Eyes And listen Carefully To this Poem We close The divide But because We know To put Our future First We must First put Our differences Aside We lay Down our Arms So we Can reach Out our Arms To one Another We seek Harm to None And harmony For all Let the Globe If nothing Else Say this Is true That even As we Grieved We grew That even As we Hurt We hoped That even As we Tired We Tried That we'll Forever be Tied Together Victorious Not because We will Never again Know Defeat But Because We will Never Again Sow Division Thanks Thank you Marek And for The poetry The next Speaker Is Lucio Gentili 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 Thank you Piero Lucio Lucio Gentili Lucio Gentili Yes From the Italian Water Movement I Won't Dare I Won't Say It In Italian Not Here Ciao a tutti Sono Lucio Gentili del Forum Italiano dell'Acqua e proprio in quanto siamo membri del Movimento Europeo dell'Acqua quindi siamo anche parte del Movimento Europeo dell'Acqua. La domanda che ci siamo posti sulla quale abbiamo voluto ragionare è come intraprendere un percorso di realizzazione dei diritti che riesca ad affrontare e prevalere sulle politiche e sul potere delle destre come spesso ci troviamo. L'abbiamo derivata anche da come l'abbiamo vissuta come esperienza nel campo dell'acqua cioè sarà importante di meno parziale o generale ma che cosa è venuto fuori sulla base di questa esperienza nel campo dell'acqua. Acqua che è un bene vitale fondamentale per cui l'affrontarlo bene o male influenza anche altri beni vitali in altre maniera è un'esperienza e un qualcosa che dobbiamo trovare che può essere molto significativo anche per altri campi diciamo quasi paradigmatico. L'acqua allora come bene vitale fondamentale è un bene comune è universale deve riguardare veramente tutti ed è inalienabile. Questo presuppone che le riserve idriche sono preziose e vanno preservate questo significa la difesa di tutta l'umanità e la difesa della natura sono la stessa cosa. Danneggiamo la natura sono esperienze molto concrete ci sono anche tragedie umane l'uomo fa politiche sbagliate nei riguardi della natura crea di nuovo questo meccanismo di degrado in certi casi addirittura di tragedia. Inutile dare la casistica di tante come dire devastazioni che sono avvenute con conseguenze naturali e sociali quindi l'acqua non può essere e le risorse idriche non possono essere le risorse idriche sottratte da soggetti parziali soggetti singoli in particolare dai grossi soggetti privati come sta avvenendo recentemente. e quindi questo c'è una conseguenza cioè no alla quotazione in borsa no alle privatizzazioni magari unendoci pure attraverso le multi utility ad altri beni e servizi fondamentali. Questo assolutamente non è possibile perché appunto è la compromissione di una risorsa che appunto rischia di diventare insufficiente. Quindi no alle concessioni no ai processi di liberalizzazione e assolutamente ci si deve opporre a questi trattati internazionali sul commercio e gli investimenti fatti in un'ottica neoliberista. Quindi questi come dire appelli raccolte di firme cose che noi abbiamo fatto anche concretamente e anche con denunce devono essere fatte a tutti i livelli. L'ha fatto l'ONU deve essere fatta anche come dire in dichiarazioni di soggetti importanti anche a livello locale e poi soprattutto ci deve essere il ruolo è fondamentale delle popolazioni locali. Perché sono i primi che sono o le vittime o che resistono alle conseguenze di questi meccanismi neoliberisti. Ci sono esperienze non solo in danno ma anche come protagonisti di lotta. Ci sono penso sono uno dei tanti esempi le comunità del Rojava tra l'altro nel nord est della della Siria che stanno gestendo l'acqua in una forma alternativa rispetto a queste predature. Ci sono territori europei pur non facendo parte della comunità europea la Bosnia e Gregorvina la Serbia e queste come dire realtà in realtà coinvolgono tutti i soggetti europei anche all'interno. le multinazionali quindi privati locali e generali ci siamo dentro fino al collo su tanti territori anche europei anche se questi non fanno parte della comunità europea. Un'ultima cosa. Noi dobbiamo affrontare le emergenze ma non abbiamo mai perso i motivi strategici. I poteri che ci sono avversari ragionano e operano sui lunghi tempi quando le gode vanno male. Noi dobbiamo avere questa stessa identica resistenza. Affrontare le emergenze ma per esempio come nel nostro piccolo nell'acqua affrontarle. anche come cose strategiche confluendo questo è vitale appunto attraverso tutti questi movimenti compresi quelli civili. Non è una sovrastruttura. Può essere una conquista, una tragedia nella vita di tutti i giorni. I gruppi emarginati, uomini o donne, quando si lotta contro l'irrigidimento delle categorie sessuali o religiose oppure laiche oppure di pensiero appunto ateo. Tutte queste cose e i confini anche nel campo sessuale, tutto questo ci riguarda come l'acqua e come gli altri beni fondamentali. Grazie per l'attenzione. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. questa sessione consta di due parti ben differenziate e ci parla di un punto di partita e un punto di arrivata nel escenario europeo. La prima parte, risentimento, soledà, nos situa in una posizione di amargura, di isolamento, che fa che ci spresemo con rencor, con rechazzo, hacia a chi consideriamo culpabile, entrando molte volte in un bucchio di impotenza, di passività, in cui nulla si aprende e del che non si sale. La ragione fondamentale è che viviamo in una epoca di capitalismo finanziarizzato, valla palabra, in cui una parte importante del volumen total della economia sono finanziari. E questo gioco especulativo di un capital fictico e parasitario non promuove imposti di lavoro, sino desigualdà, pobreza e desposizione. In questo contesto proliferano i fondi di cobertura o di capital rischio, i fondi di rischio, tra cui... Sorry, mis disculpas a los traductores. Soy la mujer bala, voy a ir más despacio. In questo contesto proliferano i fondi di cobertura o capital rischio, tra cui attività principale sta la compra di deuda di baja calificazione, tanto di empresas come o di estados. Para cobrarla íntegra, poi, per metodos mafiosi e di grandi loti di viviendali, a prezio di saldo, per revendere molto più cari. Come buitres planeano per il mondo, buscando oportunità di negocio, especulativo, ovviamente, aprovechando situazioni di crisi e debilità di empresas, di paesi, di familii. Un esempio di su modus operandi è che, in le banci e i fondi di inversione inundano i tribunali di justi, reclamando il impago di crédito e alquiler, in questo caso, più di medio milioni di famiglie ogni anno, e ejecutando desahuci quando non possono fare fronte a le deudate. Ante questa situazione, gran parte della cittadinanza se ve desprotegida, nos vemos desprotegidos e è facile che molte persone caendano nel desanimo e nel fatalismo. E questo, come se concreta, os preguntarai, por dónde empezamos? Vamos a dire, por dónde empezamos in España. Los fondos buitre, los Lone Star, Blackstone, Cerberus, eccetera, eccetera, viven con la ilusione di passare desapercibidos entre la maraña di empresas pantalla, di la ingenieria finanziaria e i margini della legalità in cui si muovono. Però, miren ustedes, ahí precisamente è dove i movimenti sociali creati per questa luce, poniamo il foco per dejarlos al descubierto, al desnudo. E non solo facendo questo, intentiamo anche poner freni a la expansione, obligando a i politici a approbare leggi che limitano su potere, che proibano privatizzare activi pubblici e permettano desprivatizzare e remunicipalizzare, llevar otra vez a i municipi, sectores estratégici per il bienestar comun. Estas sono alcune delle accioni llevate a cabo e ganate durante questo stesso anno nel mio paese, in España. Siguendo la logica e lo che hizo Bielgica, molto ben fatto. In 2018 se crea la Plataforma contra los Fondos Buitre, che impulsa la creazione di una lei che pone lìmites a la attività in sectores clave, deuda soberana, vivienda, residencias per persone mayore e così. Otra delle sue exigenze è che la SARE, il chiamato banco malo, con activi dei banci nazionalizzati, priori la vendita delle sue viviendali a aiutamenti per la gente che realmente las necessita. Otro, il sindicato di inquilini vencì, ganò a Blackstone in Torrejone di Ardoz e più aiutamenti della provincia di Madrid, tras due anni di luce e negociazione. 83 famiglias evitaron una subida abusiva del 100% in sus alquileres di casa. Otra más, la Plataforma Valenciana contra los Fondos Buitre declara que no puede haber casas vacías destinadas a fines especulativos mientras haya personas sin techo. Y logró la aprobación de un decreto contra la especulación con expropiaciones, con multas y todo eso que tanto daño les hace. Y les cuento la última para no ir de pesada, es que hay más, eh. Las trabajadoras de los centros de atención a la infancia del Ayuntamiento de Madrid, qué tristeza que los niños estén en las manos de los buitres, gestionados por la empresa Grupo 5, que pertenece al fondo buitre Corfin Capital, es lo que hablábamos de las empresas pantalla, llevaron a cabo una huelga de tres meses para mejorar sus condiciones laborales miserables y consiguieron sus objetivos. Bueno, hay muchos más ejemplos, es verdad. Esta es y ha sido siempre la única vía, no hay otra, hay que plantarles cara. El there is no alternative neoliberal puede ser combativo y puede ser derrotado. La ilusión y la esperanza deben renacer a partir de la superación del derrotismo actual a través de los hechos y de la concienciación. Pongámonos en marcha. Si se quiere, se puede. Gracias, Emile. Gracias, Fernanda. Giulia Torini. Giulia Torini. Un Ponto Per. And following Giulia will be Alessandro Rapazzi. Buonasera. Io rappresento un Ponte Per. Da 31 anni costruiamo ponti. In questo momento rappresento anche eh un membro di una organizzazione nazionale che opera in Medio Oriente a fianco delle popolazioni oppresse. Questa mattina Sahar che è venuta dall'Iraq e che rappresentava la rivoluzione irachena ha detto qualcosa di molto importante. Credo che sia venuto il momento di parlare anche di quello su cui non siamo sempre d'accordo come sinistra europea. Sahar ha detto che forse è il momento di cambiare strategia. Forse è il momento di riflettere e di capire se nel mondo la destra, ed è la domanda a cui mi è stato chiesto di rispondere, ha sempre più potere di convincimento sull'elettorato, forse in parte è colpa anche di come le sinistre si stanno organizzando nel mondo e questo ci deve cogliere in prima persona come responsabili di queste scelte. Io credo che l'elettorato che sceglie di votare governi di destra oppure di non andare più a votare sia un elettorato che si fa convincere da proposte che trova fondamentali per la propria vita. Io credo che l'elettore di sinistra o che l'elettore medio non creda più tanto nell'utopia. Oggi non c'è utopia che tenga davanti al bisogno di giustizia sociale, davanti al bisogno di lavoro, davanti alla giustizia climatica. La destra convince ed è anche errore nostro come popolo di sinistre essere in grado di convergere. Credo che ci siano temi come la pace, la non violenza, il disarmo su cui le sinistre a volte non hanno una voce unica e questo l'elettore medio, il popolo medio lo sente e se non c'è decisione univoca su temi come la pace, non si può essere credibili. Se la destra riesce ad andare con proclami nazionalisti a governare in Europa per poi dimostrare, lo stiamo vedendo nel nostro paese, che in realtà ci si plasma ai volere di grandi poteri economici, militari, la sinistra non è in grado di fare altrettanto. E allora da oggi, come c'è stato detto da qualcuno oggi pomeriggio, dobbiamo forse ripensare a come obbligare la politica, obbligare la politica, ha detto la persona che ha parlato prima di me, i politici che sono messi a servizio dei cittadini a portare avanti le tematiche delle sinistre, non solo sui diritti fondamentali su cui siamo tutti d'accordo, non solo, ma anche sulle risorse come l'acqua, come i beni comuni, come l'ambiente, che sono la base della nostra vita e che influenzano la salute globale, l'ambiente, quindi il lavoro e quindi l'economia. Ma se non facciamo uno sforzo di convergenza, includendo e non radicalizzandoci nel senso di diventare radicali, dobbiamo essere inclusivi, dobbiamo allargare alle divergenze, trovare fondamento comune e farlo diventare proposta politica ed è quello che come un Ponte Per credo che stiamo imparando dai popoli giovanissimi che in Iraq, in Libano, nel nord-est della Siria, nei luoghi in cui operiamo ci stanno insegnando come ci si siede al tavolo con chi fino al giorno prima neanche parlava con noi e ci si mette d'accordo per il bene comune di un popolo che ha bisogno di sopravvivere e lo deve fare credendo nella giustizia. Scusate, un avviso di servizio. Lo so che parlare di soldi non fa fine, è una cosa volgare, però come ben immaginate l'organizzazione di questa grande baracca non è stata facile e le spese neanche. Stiamo sotto di qualcosa, non di grandi cifre, però se fate tutti uno sforzo, stamattina e oggi sono passate circa quattrocento persone, basta veramente poco, fuori si raccolgono anche piccole somme, riusciamo ad andare in pari e così ne facciamo tanti. D'accordo? Ok. Sì, Alessandro. Welcome. And just Alessandro before you begin, the next speaker after Alessandro is Alex Zappico. Buonasera a tutti. Io riparto anch'io dalla domanda posta da Piero, che è una domanda fondamentale in un momento complesso. Oggi gli interventi che si stanno succedendo hanno questa caratteristica comune, il richiamo a non rimanere soli e l'ottimismo di potercela fare in una fase particolarmente complessa. Piero diceva nel suo intervento dove abbiamo sbagliato, no? La risposta che la destra propone è una risposta semplice. Forse la risposta, perché abbiamo l'analisi era giusta vent'anni fa, i problemi che ci siamo posti erano tutti giusti e sono tutti qui, sono tutti sul tavolo. La proposta probabilmente era difficile da capire. Io penso sia difficile la risposta. Non esistono risposte semplici nella complessità del mondo. La destra ha gioco facile nel semplificare perché la sua è una risposta individualista. Gli interventi si sono succeduti, lo hanno un po' raccontato, rispondere ai bisogni individuali è più facile che rispondere a bisogni complessi, bisogni di carattere collettivo. Noi dobbiamo insistere su questa ricerca. Dobbiamo, come dire, essere ancora più convinti e provare a trovare quelle risposte che ci permettono di recuperare il nostro ideale e l'ideale è quello di un mondo complesso, perché le risposte sono complesse. Sono convinto anche che non è un caso che si attacca alla scuola. Non è un caso perché la scuola in questo momento è un luogo antistorico. Per sua natura la scuola, l'università, i luoghi dell'istruzione sono comunità. Sono luoghi dove i soggetti che la vivono interagiscono e per questo sono un elemento che dà noia, disturba, perché crea luoghi di riflessione. Non è un caso che ora la destra si sta concentrando su questo. Non solo sull'elemento culturale, riscrivere la storia. Lo ha dimostrato il ministro con la lettera mandata a tutte le scuole italiane, con quelle sciocchezze messe insieme ma che denotano chiaramente un'idea. Ma lo si fa anche con altri atti come il decreto sui RAV, l'intervento della polizia alla Sapienza a Roma. Cioè quindi c'è in atto un'idea, un'idea. Annichilire il mondo dell'istruzione. Attenzione, la pandemia ci ha dato un insegnamento. In quella fase così complicata la didattica a distanza è stato uno strumento messo in campo. Oggi noi possiamo dire che se lì, poi riflettiamoci, è stato un salvagente, è stato un momento per cui siamo rimasti comunque in contatto, oggi noi dobbiamo dire che la didattica a distanza è la morte della scuola, è la morte dell'istruzione. Perché viene meno l'elemento che oggi ci fa stare qui. Cioè quello di stare insieme, di toccarci, di vederci, di guardare il sopracciglio che si alza. Noi abbiamo bisogno di stare insieme, di viverci insieme. E quindi ha avuto buon gioco anche la destra perché la pandemia ha dato un contributo rispetto a questo. Ha separato le persone. Ci dicevamo saremmo usciti migliori. No? Siamo usciti peggiori. E noi abbiamo oggi la destra a gioco facile perché le persone sono peggiorate. Dalla scuola abbiamo una speranza. La speranza è quella di investire sulle nuove generazioni che quindi possano guardare il futuro. Come organizzazione sindacale noi da subito abbiamo provato a mettere in campo iniziative rispetto a questa. Abbiamo affiancato i giovani sulla sullo sciopero per il clima. Riteniamo sia un atto importantissimo. Noi riteniamo si debba sostenere assolutamente i movimenti. Perché ha ragione la compagna spagnola di prima, ma lo ha ridetto l'intervento ora eh di un ponte per. Noi dobbiamo lavorare sulle cose che ci uniscono, non sulle cose che ci separano. E quindi va individuato i temi, i beni comuni. Sono uno. Il patrimonio eh il patrimonio naturale. Ricomporre gli interessi del mondo del lavoro. Questo un mondo del lavoro che oggi è stato assolutamente diviso. Penso alle battaglie dei rider o o delle delle società che si occupano di logistica. Sono proprio alcuni degli ultimi. Ma oggi quel mondo lì va assolutamente ricomposto. E allora questo è un ruolo fondamentale che abbiamo che abbiamo noi come organizzazioni sindacali è quello di stimolare, sostenere, organizzare e anche direi oggi proteggere la dialettica sociale e il conflitto sociale che non è una bestemmia. Non è una bestemmia. Il conflitto deve essere agito perché il conflitto è come dire fa parte della crescita dell'educazione e dell'istruzione di una società civile. E a questo proposito voglio dire che noi dobbiamo fare dell'antifascismo una un contenuto culturale su cui costruire un mondo nuovo contro la cultura del fascismo. Penso anche in Italia noi stiamo rilanciando un un disegno di legge sulla eh per riscrivere l'articolo centodiciassette centosedici sulla sulla autonomia differenziata. Noi dobbiamo fare tutto il possibile per impedire che il sistema di istruzione venga parcellizzato perché è questa l'operazione in corso. Dividere, separare, corporativizzare gli interessi. Gli interessi invece devono ritrovare una matrice comune perché solo insieme si esce da questi problemi. Grazie. Grazie Alessandro. So next one Alex Zapico. We are waiting for you. Alex? Stas por ahi? No? No? Bueno? E ento se vamo zamando. We are calling the next person, Theodor Selakovski. Selakovski? From the cultural worker and activist Zagreb. Okay. Welcome. And after we are calling John Rossio. John Rossio. Okay. So I was invited to give a short intervention so it won't be a kind of structured talk in terms of structured talk in terms of trying to tell the some let's say coherent and Finnish interpretation of some topic. So basically as the issue here is what we do in the so-called domination of the right within the European perspective. And I will just give a few experiences from let's say last 15 years of dealing with the issues from one side coming from the right to the city type of uh confrontations. And on the other side from the experience of entering the political arena coming from these uh uh coming uh from these uh social movements that we or local uh citizens initiatives that we were building law for last let's say 20 years in Croatia. So the first thing is that um um experiencing uh the uh through the right to the city type of initiative uh confronting privatization of a public good um we entered into the sphere of confronting also privatization of public infrastructure like a highway system and uh one important experience of gathering a large number of organizations and citizens around the issue of very concrete um attempt of government to privatize or to give in concession the 1 000 kilometer of highways in Croatia was a really um important lesson for us uh how to confront the tendency of the right to monopolize certain type of uh issues or topics one of these topics in Croatia is a highway because it is a kind of national pride uh to have this established after uh many decades of uh of uh thriving and we gathered uh both federation of uh unions federation of unions uh green organizations culture organization right to the city organizations and um with an organization dealing with transparency and we organized the platform uh and organized a referent initiative uh for collecting referendum on on the privatization of highways and uh uh we gathered half a million signature in the in the country of four million people in a 20 in the 15 days that is the framework so this was a massive endeavor basically to uh to uh to uh be successful in this and government decided to stop this uh process but what is important here is that uh we 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 deliberately entered we deliberately entered into this fight with the intention to overtake something what a rights usually takes for granted um you know the uh the sovereign aspects of infrastructure or you know so this nationalistic approach of this nationalistic approach of what we have and we entered with the confrontation of neoliberal logic with privatization global dynamics around this so but not severely entering into discourse that way because we wanted to enter into uh the the widest possible uh 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 the widest possible uh uh the widest possible uh uh um um let's say sphere of life in in Croatia and this we were successful in this so somehow the not the lesson but the experience here would be how we can fight the issues that are of a concern of the majority of the population and that we don't only approach from the emancipatory logic to 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 this type of uh uh initiatives but also to see how we uh how we discoursively and uh finding a partners um uh 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 build this type of uh organizational and discoursive constructions that could provide a majority uh uh coming into into the discourse and into the of the action so fighting around uh fighting around um the arena not only to cover or uh to be uh in the realm of our talk to each other but uh coming out of uh this um very narrow uh left or green or logic would be one of the uh confrontational tool in uh rising right in uh in uh in all of our countries and in europe so in that aspect when we took uh when we took uh responsibility power in the city of zagreb with what is a major our mayor um uh is one of these activists coming from this uh 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 field of uh activist confrontation we deliberately are trying to establish a logic where we target majority of the population with the measures with the logic of understanding and also with very specific emancipatory uh policies that should be uh 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 practiced so with the crucial thing is uh for the for us is how to be successful how to be efficient how to deliver so that's the maybe the the core lesson from uh in our experience is how we can cope with a hostile environment right leaning environment and be successful within it so the next speaker is john rocio bienvenue and following john is um paulo cacciari bonsoir je vais parler en français c'est pour les traducteurs bonsoir comme beaucoup d'entre vous j'étais là il y a 20 ans dans une magnifique démonstration de de force une magnifique démonstration d'espoir aussi et avant cela j'étais aussi à porto alegre au forum social mondial et j'ai pratiquement fait tous les forums depuis et en revenant ici j'ai quand même cette j'ai quand même cette j'ai envie de vous faire cette cette vous faire part de mon de mon de mon analyse et de mon espoir en voyant cette cette assemblée ici aujourd'hui on est sous le choc le choc de la pandémie le choc des guerres le choc des et de la montée du fascisme le choc de la guerre en ukraine la guerre en syrie le choc des réfugiés le choc de ce monde qui s'écroule le choc du climat on est on est sous le choc et on a tendance à oublier tout ce qu'on a fait depuis 20 ou 25 ans et c'est ce que j'aimerais rappeler ici la force de ces forums la force de ce qui est de ce que les forums ont amené premièrement et en fait principalement deux choses la première c'est les convergences et on oublie qu'il ya 25 ans le mouvement social mondial n'était pas aussi unifié n'était pas aussi porteur des mêmes espérances il y avait des contradictions entre les hommes environnementaliste et les développementaliste la lutte des femmes n'était pas intégrée la lutte des pour les lgbt non plus il y avait on ne prenait pas les questions des paysans au sérieux il y avait énormément de choses qui étaient dispersées les forums sociaux mondiaux et les formes européens ont permis la convergence des thèmes et ont permis après quatre ou cinq ans à partir de 2005 2006 on a su que nous avions au fond toutes les réponses nous avions posé comme il faut le diagnostic du capitalisme et nous nous avions toutes les réponses on avions quelques contradictions politiques ou politicienne entre nous mais pas de contradictions fondamentales ni sur l'analyse venir sur la capacité à gérer des choses si nous avions pu les gérer c'est pas là que nous avons échoué là où nous avons réussi nous avons réussi une deuxième chose nous avons réussi que partout dans le monde à chaque fois qu'on revenait d'un forum social on ramenait des idées on ramenait une énergie on ramenait une force et ça ça a profondément changé la société pendant les 20 années précédentes et ça faut pas l'oublier non plus c'est pas parce que nous sommes sous le choc de des réalités que j'ai énoncé tout à l'heure qu'il faut pas oublier tout ce que ça a amené notamment si je prends si je prends un exemple le je parle ici pour le ripès pour le réseau intercontinental pour la promotion de l'économie sociale et solidaire c'était un des thèmes du forum social mondial en 2002 si ma mémoire est bonne et c'est à ce moment là on a créé la chambre de l'économie sociale et solidaire de genève la ville dont je viens et donc et en faisant converger les gens qui parlaient au nom de l'économie sociale à genève et ceux qui parlaient au nom de l'économie solidaire et qui ne se parlait pas entre eux et nous avons créé en créant la chambre de l'économie sociale et solidaire de genève une nouvelle dynamique qui est vraiment forte aujourd'hui sur comment travailler ensemble sur l'habitat sur les coopératives d'alimentation sur toute une sorte de 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 pensée qui date de la fin du 19e siècle et que l'on a recomposé retravaillé aujourd'hui pour créer le monde de demain et ceci c'est valable je dis c'est valable pour genève mais je suis certain que c'est valable pour des milliers de villes et de régions dans le monde et c'est grâce à la dynamique des forums sociaux où est-ce qu'on a échoué on n'a pas échoué ni dans la convergence ni dans le fait de ramener sur le terrain des solutions immédiates et concrètes on a échoué à battre à à combattre le capitalisme sur ce qu'il avait de plus destructeur pour la planète et pour l'humanité est-ce qu'on doit continuer à chercher des convergences pour lutter contre ou est-ce qu'on doit aujourd'hui et c'est vraiment le point de mon propos est-ce qu'on doit aujourd'hui construire les dynamiques locales et les articuler dans les dans des dynamiques continentales et intercontinentale autour de ce qui est la vie quotidienne autour ce qui est de la production quotidienne de l'économie quotidienne de la consommation quotidienne et je terminerai là dessus sur le fait que ce que détruit aujourd'hui le système c'est le sentiment de sécurité et le sentiment de souveraineté et ces deux mots qui sont souvent séparés on doit les remettre ensemble pour repenser notre économie nous devons travailler à la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire devons travailler à la sécurité industrielle et à la souveraineté industrielle on travaille ensemble et chacun séparément dans son lieu à la sécurité énergétique et la souveraineté énergétique on doit travailler ensemble à la sécurité numérique et à la souveraineté numérique et si on travaille localement ces points et si on arrive à construire des dynamiques entre nous peut-être que nous ne serons pas la majorité mais une minorité de la population aura déjà posé toutes les conditions pour être dans un monde sûr et souverain pour le reste on pourra ouvrir la lutte mais déjà commençons à rendre positif ce qui peut l'être partout où on est et en coordination sur le plan européen et sur le plan mondial merci merci et following paolo is hillary wainwright from transnational institute merci Buonasera a tutte e a tutti. Io credo che sia abbastanza facile darci una spiegazione dei motivi del consenso incassato anche tra le classi popolari da parte delle destre reazionarie, odiose, odiatrici, perfino aggressive e crudeli. La secolare stagnazione a cui si aggiunge l'inflazione, la fine della crescita economica esponenziale almeno in Occidente, ha creato tra i perdenti della globalizzazione, tra i ceti medi impoveriti, precarizzati come già stato detto, una antropologia dell'insicurezza. E il materiale ideologico più facile da reperire con cui agglutinare il risentimento contro il tradimento dell'elite non poteva che tornare ad essere la patria, il rosario e il moschetto. Con buona pace per le rivoluzioni verdi e digitali, per il capitalismo sostenibile, inclusivo e dal volto umano, così che gli obiettivi dello sviluppo sostenibile dell'ONU, l'Accordo di Parigi e pure l'economy of Francesco possono aspettare tempi migliori. La ristrutturazione capitalistica si sbarazza di ogni responsabilità sul mondo, sulle sorti universali della umanità e della natura. Trova un grande alleato in queste destre nazionaliste disciplinante delle contraddizioni sociali. Meno facile invece capire come e cosa dovremmo fare noi per rovesciare il malcontento in un vero movimento di emancipazione dalla riduzione a merce del lavoro e della natura. La mia banalissima tesi è che soffriamo la mancanza di un grande progetto di trasformazione sociale, ecologico, non violento. Che sappia prendersi in carico i bisogni pratici, quotidiani, fondamentali delle persone, ma che sia anche capace di dare una risposta, come dire, di cornice alla crisi di civilizzazione del capitalismo. Mi immagino per noi un doppio movimento che sappia agire sia nel campo sociale sia in quello delle idee, creare spazi di libertà fuori mercato, presidi permanenti di contropotere, anche limitati, anche locali, ma generatori di relazioni comunitarie, solidali e responsabili da una parte e contemporaneamente ricuperare una dimensione valoriale, simbolica, culturale, etica dell'agire politico trasformativo. Senza sogni la politica muore, diventa amministratore dell'esistente, amministrazione dell'esistente. Dovremmo avere il coraggio e l'ambizione di concretizzare, dare un nome all'altro mondo nuovo immaginato vent'anni fa. Un mondo disarmato, smilitarizzato, una economia della cura, fuori da ogni colonialismo, fuori da ogni eurocentrismo, un pianeta vitale, istituzioni politiche fondate su comunità solidali, aperte, inclusive, confederate. Capisco bene che termini come sinistra, progressismo, socialismo, comunismo hanno bisogno di essere risignificati profondamente, riformati a causa degli, per usare un eufemismo, slittamenti sematici che hanno subito nella storia reale proprio dalle sinistre dei progressisti, dei socialisti e dei comunisti. Ma quando vedo i risultati delle deputate della squadra del Democratic Socialist World America, li avete viste, dei neosocialisti, mi rincuoro. Così come ancora più mi rincuoro quando sento le cose che stanno succedendo a Barcellona e in Catalogna e in tutta la da en commune e così via. Penso insomma che ogni insorgenza sociale debba essere accompagnato anche da una irruzione nelle istituzioni politiche. Diceva, ho finito, diceva il compagno giovane danese delle minoranze, la politica è troppo importante, va quindi contesa, va quindi negoziata direttamente in prima persona dai movimenti sociali. Grazie. Grazie, grazie mille. Ora stiamo aspettando per Hilary Wernwright da TNI, UK TNI. Sei qui, Hilary? Sì? Non preoccuparti, non preoccuparti. Dopo che Hilary sarà Maurizio Acerbo? Acerbo. Acerbo. So, let's be ready for the next one. Thank you, Hilary, and welcome to the floor. Okay, so greetings comrades and friends, old friends and also younger new friends. So, I'm from the UK and from the TNI, completely opposite identifications. So, from the UK, I bring greetings from all those who are trying to escape Brexit, and not escape Brexit into the EU, but into this convergence of people trying to make another Europe possible. And from the TNI, I bring greetings from all those activists across the world that are part of the TNI network that has been following and helping to develop the Social Forum and the World Social Forum. And now, in the new, as somebody was saying, shocking reality, some notion of an alternative, and particularly an alternative able to answer the anxieties and concerns of the mass of people. So, I don't know about you, but maybe this is for people who are somewhat, what was the phrase, somewhat young, not somewhat older, anyway, old, I suppose, who were part of the amazing first forum. And I, like many, I don't know whether you felt like this, but I felt a bit apprehensive, a bit nervous about whether, you know, in a way, this could follow such an act, in such an extraordinary event in 2022. But I feel, you know, I feel full of hope and commitment and energy and new ideas, not sort of repeating the mistakes of the past. And I really, really want to start by thanking Rafaela, Tommaso, Piero, and many others, Nicola, and many for, I know they put in just huge, like, day-to-day efforts in making this possible. And they've made it possible in a way that gives us the basis of addressing the problems of resentment and loneliness and disconnection that have created the conditions for the right to grow. They've, on the one hand, made visible the networks that have been sustained in spite of all the efforts to destroy us since 2002. But they've also helped to create a culture of openness and kind of modesty and realism in addressing the problems that we face. So I just wanted to add two reflections building on those achievements. One is, you know, really, firstly, our strengths, that in spite of the difficulties, we have managed to keep these networks going, not in the sense of the mass convergences of the past, but the day-to-day organizing. And it's exhausting organizing because often we have to be organizing networks on many different fronts. I was talking to the comrade from the water campaign in Abruzzo, you know, organizing the water campaign against the continuing privatization in Italy, but at the same time organizing around climate change and climate chaos. And that's the same for any feminist here. We're part of about six, ten different networks, but those networks exist. On the other hand, we've got to face up to our weaknesses. My personal thought is that our weakness was perhaps to delegate politics in the sense of the overall coordination, delegate it to political parties in which we had hope. I mean, I was as guilty as anybody in hoping that new political parties were emerging that could change politics. But we underestimated the strength and the pace at which neoliberalism hollowed out democracy and overwhelmed those parties with corporate power very much, you know, behind the state and actually overwhelmed those parties, as we've seen both in the UK with Jeremy Corbyn in Greece and in Italy. So I just wanted to draw out one or two points building on our strengths to address our weaknesses. And in a way, I wanted to build on Rafaela's point about we need strategy and vision and say that we also need a practice that embeds vision in day-to-day practice, in day-to-day concerns, so that in a way our vision is visible to the mass of people. And I think that's, in a way, learning from the women's movement, this idea of prefiguring in our daily life the alternative that we want to create. And I think that that means two things. One is it means that in our networks, we need to think about how we expand our networks into the forms of solidarity and organising that are emerging from society amongst people who are not necessarily, they don't identify with the left, they don't identify with resistance, but they are angry and they are worried. I mean, we saw during the pandemic, at least I saw in London, many different kinds of solidarity amongst people who weren't part of our networks, people who, you know, were simply trying to build on values of solidarity, neighbourliness, to build alternatives. So I think we've got to be looking outwards like that. And at the same time, we've got to be extending our networks, extending them in the way that the women's movement has extended solidarity in the way that we can sort of, in a way, bring things together. And I think the convergence that's happening tomorrow is going to be crucial there. And what we've got to do is really think of trying to build our convergences, not in the way that we used to, but in a way that also is based on a methodology of alternatives, like the comrade from the Social Solidarity Network said, building alternatives in everyday life. And there are many examples of this and building them locally, like the peace movement in Rome was built by developing work in 100 different cities, developing a much wider kind of network. And I think also we've got to be putting the stress on linking the local with the national. And I think that way, hopefully, we'll be meeting next year with many successes to report, but in a modest way that we've got a long way to go. And the key thing is not to lose our roots. I think perhaps sometimes we assume that we could inherit the roots of the old movements, but actually those roots have been destroyed and exhausted. And we've got to create our own popular roots and that way provide an answer to the appeal of the right. Thanks, Hilary. I'll just make another call. Is Alex Zapplico in the room? Because we jumped him in the list before. No, no. Innanzitutto voglio dire che sono molto molto d'accordo con l'introduzione che ha fatto a questa sessione Piero Bernocchi. Vorrei dire alcune cose. Innanzitutto, visto che siamo in Italia, cioè nel paese di Giorgio Meloni, evitiamo di riconoscere al nemico meriti che non ha. Ma non è vero che la destra ha risposte alla crisi, alle difficoltà, ai problemi di milioni di italiani e di italiani. La destra ha un programma cialtronesco, grottesco, ridicolo. Dobbiamo avere la forza e la consapevolezza di dirlo, ma risulta credibile perché si è presentata a milioni di italiani come la risposta popolare è antisistema rispetto all'elite. E lo ha potuto fare perché noi siamo stati sconfitti sul piano politico e sociale. E noi non siamo stati sconfitti dalla destra. Noi in Europa, negli Stati Uniti e anche altrove, siamo stati sconfitti dallo schieramento di estremista, di centro neoliberista che alcuni in Italia si ostinano a chiamare sinistra. Qui a questo tavolo è seduto Piero. Abbiamo fatto un'iniziativa sugli scioperi in Francia tempo fa, durante lo sciopero sulle pensioni, e ricordava che oggi in Italia il diritto di sciopero è limitato in una maniera per cui anche volendo non potremmo fare gli scioperi come i francesi e queste regole non le ha approvate e imposte la destra, le ha pensate e realizzate il centro-sinistra. E questo non vale solo sulla scala nazionale. Io credo che noi dobbiamo rifiutare la narrazione che la grande emergenza è la destra, la grande emergenza è il capitalismo neoliberista che ci sta conducendo alla guerra, alla catastrofe ecologica e alla crisi finale delle nostre democrazie. Perché il liberismo illiberale della destra è un'espressione gradita dall'establishment. Giorgia Meloni, prima di diventare presidente del Consiglio, ha avuto la liberatoria da Mario Draghi, da Hillary Clinton, dal Corriere della Sera, lo storico e principale quotidiano della borghesia italiana, praticamente da tutti. Il suo arrivo non è stato accolto come la vittoria del nostro compagno Alexis Tsipras in Grecia. Non è stato accolto come Jeremy Corbyn in Gran Bretagna. Io credo che su questo dobbiamo essere chiari tra di noi perché dobbiamo evitare di farci arruolare come abbiamo già fatto in passato. Venti anni fa qui a Firenze c'era la sinistra radicale e il movimento più forti d'Europa. Siccome io parlo a nome del partito che ha sacrificato quasi tutto sull'idea che bisognava unire tutti i democratici e tutte le sinistre per battere la destra, io dico adesso non facciamo la stessa replica. Cerchiamo di combattere le nostre battaglie, le nostre lotte, perché il rischio che abbiamo, altrimenti, è di essere arruolati per una lotta che non è la nostra. Vedete, in queste ore Macron è diventato il simbolo dei democratici italiani. La compagna dei gilet gialli ha ricordato che contro i gilet gialli Macron ha scatenato una repressione che noi in Italia non vediamo dagli anni Sessanta. Undici morti nelle manifestazioni. Cerchiamo di ricostruire una forza sociale che sia per la pace, per l'ecologia, per la giustizia sociale e per la democrazia. Riprendiamoci la nostra voce e evitiamo di essere arruolati sia nella guerra dell'Occidente contro il resto del mondo e di essere anche arruolati nelle faide all'interno delle classi dirigenti del neoliberismo. proviamola a costruire quell'alternativa di cui parlava Paolo Cacciari prima di me. Io dico solo una cosa. In Italia abbiamo avuto un dibattito in altri paesi europei e concludo c'è stato molto meno tra sociale e politico. La cosa più bella che ho sentito negli ultimi mesi è stata in un incontro che abbiamo fatto dopo la manifestazione in Bologna con Stodile dei Senterra. Ha parlato per un'ora di tutto ciò che sta facendo il movimento Senterra. Poi ha detto a agosto ci siamo fermati perché da agosto fino alla data delle elezioni dovevamo occuparci soltanto di riportare Lula alla presidenza. Noi un Lula non ce l'abbiamo oggi, ma Lula non è un leader. È il prodotto di un processo collettivo che noi abbiamo conosciuto dentro il movimento dei movimenti e dentro i fori sociali. È quello che noi dovremmo cercare con umiltà tutti di costruire anche in Italia e in Europa. Grazie Maurizio. Allora, innanzitutto buonasera a tutti e a tutti. dirò solo qualcosa, diciamo, a margine di questo incontro con moltissimi aspetti di grande rilevanza. Qualcosa a partire da quello che stiamo vedendo dell'evoluzione molto rapida della destra, delle destre italiane al governo. una serie di riflessioni che riguardano sicuramente le destre italiane, ma non solo. Credo si possano applicare anche a altre destre europee, penso al caso Le Pen e a diversi altri. Innanzitutto è molto chiaro in questo momento il tentativo, che è anche abbastanza esplicito da parte della destra di Fratelli d'Italia, di Meloni, di creare, di fungere da piattaforma per ricreare una sorta di coine culturale all'interno di un blocco sociale e culturale delle destre italiane che comprenda gruppi anche eterogenei. Quindi post-fascisti, neofascisti, integratisti cristiani, fondamentalisti liberisti, xenofobi, conservatori in giacca e cravatta. Questo credo che sia l'intento, che è ancora una volta il segno di una grande plasticità di queste formazioni. Questo è un primo punto. Secondo punto, molto evidente dal caso italiano, e a me subisce molto, il fatto che Meloni si sia spostato, quella tradizione abbia cambiato pelle e abbia abbandonato quegli aspetti che rimandavano, in qualche modo perché conosce il fascismo, a una tradizione sociale e, se volete, neocorporativa. Di questo non c'è più niente. È un progetto liberista dal punto di vista economico e sociale, l'abbiamo visto anche durante la campagna elettorale. Rimane il tema del centralismo, dello statalismo, in una torsione disciplinare e autoritaria dello Stato contro ogni tipo di minoranze. Questo è il progetto, a mio avviso. Un po' fucoltiano, se volete. Perché, come diceva prima Cerbo, noi dobbiamo combattere le destre, ma dobbiamo combattere anche il neoliberismo. Non è una cosa facile, perché le due, diciamo, battaglie sono complementari. Io volevo dire solo due cose, e poi concludo, a partire dalla mia nostra esperienza relativa alla stagione dei social forum, che per me è stata probabilmente la più bella stagione politica della mia vita. Voglio dire due cose. Questa destra, Meloni, ma ripeto, non riguarda solo l'Italia, quello che sto dicendo, sta manifestando grandi capacità di gestire la comunicazione. Come sapete benissimo, moltissimo, sono stati molto bravi a gestire, dico bravi al maschile, a gestire i social media, ma sono anche molto bravi a gestire la comunicazione tradizionale. La presa della RAI da parte di Fratelli d'Italia non è avvenuta, sta avvenendo ora, è una cosa che è avvenuta negli ultimi anni, è stata costruita. Ora non possiamo qua fare la storia di questa cosa, però grande capacità anche di recuperare i media tradizionali, le televisioni, le radio, eccetera. Credo che da questo punto di vista, e l'altro aspetto, una cosa molto diversa da quello che è successo in passato in Italia, consenso e benevolenza, anche, come diceva prima, ma anche acerbo da parte della stampa padronale, della stampa, che una volta si sarebbe detta borghese, della stampa contindustriale, della stampa liberista, comiatela come vi pare. Non c'è opposizione. Se pensiamo a cosa è successo nel 94, nel 2001, il quadro oggi è di conformismo quasi totale. È un aspetto molto nuovo, molto diverso rispetto al passato. Le voci di opposizione radicale a questo tipo di politica sono molto poche, è difficile trovarle. Andate a vedere cosa è successo dopo la manifestazione di sabato pacifista a Roma e qual è stata la copertura di stampa e qual è stata la lettura di quella manifestazione. Dico questo perché? Perché penso che noi dovremmo ripensare a, come dire, a quella lezione dei social forum in termini, arrivo subito, di capacità di comunicazione, di capacità di spiazzare, di sorprendere e di ripensare appunto le nostre forme di comunicazione a partire, secondo me, da un uso critico dei social media che non sono proprio nostri alleati. Noi li usiamo, ma a volte sono loro a usare noi e ripensando anche a forme nuove o vecchie di comunicazione legate alla materialità dei corpi, alla prossimità delle persone, al recupero di nuovi o vecchi canali. Io penso che questo è uno dei temi che dobbiamo far circolare a livello europeo, una elaborazione nuova. E ultimo punto, riprendendo la storia e quell'esperienza dei social forum, il tema dell'attivismo. Io credo che noi dobbiamo, io questa cosa negli ultimi anni l'ho sentita, come dire, declinare, quella grande lezione nei social forum che è stata la capacità di ibridare, mettere insieme, far coesistere, farsi capire da parte di forme diverse di attivismo. Persone, gruppi che avevano priorità diverse, esprimevano radicalità diverse, pratiche diverse, linguaggi diversi, e invece, e questa cosa un po' si è persa. Io credo che si debba ripartire da questo aspetto. Non ci sono gerarchie tra le pratiche. Le persone hanno tempi diversi per fare, nel fare, la loro possibilità di fare politica oggi, come sappiamo, è molto limitata anche dai tempi. Ci sono declinazioni per generi e generazioni di questo aspetto. Io credo che noi dobbiamo ripensare a come stare dentro la politica, se vogliamo, e qui chiudo, recuperare, come diceva qualcuno, ogni intelligenza per questa battaglia che credo sarà molto lunga e difficile. Non è detto che vinciamo, ma credo che siamo tutte e tutte qui con l'idea che sia assolutamente centrale provare a trovare, comunicare, manifestare una strada diversa, un altro mondo possibile, sia rispetto al liberismo, sia rispetto appunto alle destre autoritarie, post-fasciste, neofasciste, chiamatele come volete, ma insomma che ci ricordano molto il passato, insomma, ma sono molto nuove, però. a little bit early. It's scheduled to finish at 7, but we will finish a little bit earlier, which gives everyone time to gather yourselves together and join our comrades from Fridays for the future at the Piazza Santa Maria Novella, which is only about 200 metres from here. So when this session finishes, if you want to go together to the Piazza Santa Maria Novella and the Fridays for the future are organizing in action and we can all be part of that together. Okay? Thanks. Thank you, Joseph. Okay. Bueno, voy a hablar en español. Bueno, yo vengo de la Confederación Intersindical, que somos un sindicato de clases solidario y asambleario, pero sobre todo un sindicato antifascista, sociopolítico e internacionalista. Razones que explican el hecho de estar aquí, la importancia que tiene para nosotros y agradecemos el poder participar de este espacio. En relación con la temática, partimos de una realidad, en la que la ultraderecha es solo una parte de esa gran complejidad. Luchamos contra y desde el desconcierto que producen las tendencias devastadoras del capitalismo, contra la explotación y la precarización de la clase trabajadora para aumentar los beneficios empresariales, luchamos contra el auge del fascismo, el autoritarismo, la crisis democrática y también contra los agujeros negros de una sociedad excluyente. Claro, es un panorama desolador, pero es parte de la realidad a la que nos enfrentamos y no podemos eludirla ni separarnos. Esa noche de la que se hablaba, ese lado oscuro está, no es antagónico con el lado de la luz, el lado brillante, sino que forma parte del camino que tenemos que transitar hasta alcanzar los objetivos que tenemos propuestos. No voy a entrar a, yo creo que se ha explicado, es cierto que hay que saber cuál es el monstruo que tenemos delante, reconocerlo, el monstruo del fascismo para poder luchar contra a él, se ha hablado sobre ello antes por parte de otros compañeros, hay diferencias evidentemente entre los Salvini, los Meloni, los Trump, Penn o Le Pen o Abascal, pero quiero centrarme en otra parte, en primer lugar el sistema heteropatralcal, capitalista, racista y colonial, le conviene mucho la disputa, la división, la confrontación entre unos y otros, la división que acaba con la cohesión social y la extrema derecha es especialista en azuzar esa división, no le importa el uso de la mentira, la difusión de los fake news, cualquier manipulación es válida para aumentar la xenofobia, el racismo, la elegitivofobia que separan y dividen a la clase trabajadora y a la sociedad en general. Desde el momento en que se crea esa división, esa problemática del yo y el otro, hay un proceso de diferenciación, de aislamiento, de división, de individualización, de fragmentación de la sociedad que es defendida no solo en lo que hablamos antes, no solo por el fascismo, no solo por la ultraderecha, sino por el propio sistema neoliberal, por el capitalismo. Por tanto, lo que planteamos es que para convertir ese descontento social, la división, la individualización, para combatirlo es necesario encontrar gérmenes de esperanza. Gérmenes de esperanza, que la Concepción Inter Sindical está convencida de que uno de ellos, uno esencial, es la solidaridad. Solidaridad, ya se ha comentado aquí. La solidaridad puede tomar diferentes formas y sobre todo se adapta a las circunstancias. Tenemos que reconstruir la solidaridad, reconvertirla, adaptarla y hay ejemplos para poder hacer ese camino. En tiempos de incertidumbre como los que vivimos, de desánimo, de sensación de naufragio colectivo, de falta de cohesión social, la solidaridad es una brújula que señala el camino hacia el futuro y que también debe poner freno al ascenso del fascismo. La solidaridad se debe convertir en el muro contra ese autoritarismo y para construir ese futuro solidario y democrático hay que conjugar la utopía a veces con la decepción, con las decepciones que hablamos antes. Pero por terminar, obviamente, hay una reflexión final que quería compartir. La solidaridad no es simplemente una palabra, no es una cuestión abstracta, sino que se fundamentan hechos concretos, en acciones y no podemos esperar a que las instituciones, bien sean nacionales europeas, cambien de un día para otro, antes lo decíamos con las instituciones europeas, en el debate hacia dónde iba, debemos promover cambios políticos y defender la democracia ante cualquier deriva fascista y antidemocrática, pero mientras eso no sucede, mientras esos cambios estructurales de esa, por ejemplo, esa Europa de los mercaderes y el capital, debemos construir la Europa que queremos, debemos reforzar los poderes populares, sociales y democráticos, la Europa de los pueblos y la construimos cada día en nuestras ciudades, en nuestros barrios. Muchas gracias. The next speaker. from everyone in the room, thank you very much to the interpreters for your wonderful work this afternoon. Thank you. and thank you for the reminder. Okay, Katerina Archipret, I'm not sure how to pronounce it. Katerina, thank you, welcome. And following Katerina is Roberto Maria. Buonasera, sono Katerina Archiprete e rappresento Assemblea Ecologista che è una realtà nata da poco che mette insieme realtà ecologiste locali che hanno diversi punti in comune. Uno di questi è l'essere orfani di una rappresentanza a livello nazionale che sia capace di costruire e non solo postulare la transizione ecologica. ringrazio per la possibilità quindi di essere di essere qui. Oggi sono vent'anni eh dal social forum europeo ma sono anche cinquant'anni dalla conferenza sul clima di Stoccolma che è la prima conferenza organizzata dalle Nazioni Unite che diceva due cose uno siamo tutti interdipendenti due stiamo andando a sbattere lo dicevano cinquant'anni fa è evidente che le cose non sono andate bene la domanda che è stata posta è come vincere le destre come diceva un intervento che è avvenuto prima del mio purtroppo questo non basta non basta vincere le destre è importante per noi portare al governo una visione ecologista che le stesse sinistre purtroppo al governo non sono state in grado di incarnare pensiamo per esempio che è stata proprio la sinistra il luogo in cui abbiamo visto quelle feroci battaglie fra il diritto alla salute e il diritto all'ambiente senza peraltro mai parlare del diritto della natura ad esistere oggi i fattici mostrano chiaramente che l'unica prospettiva politica possibile è una prospettiva ecologista ecologismo che non è e voi qui lo sapete meglio di me non è ambientalismo ma vuol dire tre cose interdipendenza di cui si parlava prima due le risorse sono limitate tre la diversità è un valore come in ogni ecosistema una prospettiva ecologista quindi non è soltanto ambientalismo ma è una visione di direzione ma anche di metodo non è fatta dall'integrazione tra le diverse tra i diversi comitati tra le diverse battaglie ma fra l'equilibrio di essi che è difficile pertanto una una metodologia ecologista è fatta di fatica tempo relazioni cura concertazione empatia questo pensiamo che già succeda in tantissime parti del mondo della società in Italia come si dimostra qui oggi in questa giornata bellissima crediamo quindi che i tempi siano maturi che la necessità della transizione ecologica sia sempre più evidente purtroppo per le manifestazioni disastrose che vediamo e che stia diventando un valore soprattutto fra i ragazzi e le ragazze più giovani quindi a noi la responsabilità di portare questa visione in tutti i luoghi della società nella scuola nelle parrocchie appropriandoci di tutti gli spazi lasciati alle destre dall'altro la responsabilità di lavorare incessantemente affinché la politica faccia un salto ovvero smetta di tenere insieme tutti gli attori in un equilibrismo di facciata e precario ma crea invece un equilibrio reale tra le persone e l'ambiente grazie grazie a Caterina grazie a Caterina e grazie a Caterina seguendo Roberto è Heidi Mindshel ciao buonasera a tutti Roberto Morea Transform Italia nodo italiano della fondazione del partito della sinistra europea Transform Europe innanzitutto sono molto fiero orgoglioso di aver cooperato affinché questo appuntamento avesse luogo e quindi vi ringrazio di aver accettato un invito e di aver contribuito tutti insieme a costruire questo appuntamento un appuntamento importante perché ci rimette insieme rimette insieme una dimensione del pensiero dell'analisi a livello europeo e non solo che è mancato negli ultimi anni e credo che questo sia anche uno dei fattori della crescita appunto della destra in Italia e in Europa la incapacità nostra di continuare una relazione che qui da Genova a Firenze ma in tutto il percorso dei social forum avevamo costruito diciamo che c'è un grande elefante nella stanza che è la fine del secolo americano come è stato detto e credo che questo ci mette di fronte ha un declino dell'Europa in quanto entità propria come dimensione nostra della costruzione del pensiero della costruzione della società come l'abbiamo intesa nel passato e questo impoverisce e diciamo disarma tutti i cittadini europei nati dopo la guerra che hanno visto diciamo nella costruzione europea l'elemento di pace oggi la guerra in Ucraina è come diceva qualcuno Sergio Bassoli un acceleratore di questo processo ci costringono a far parte di uno schieramento occidentale con i propri valori che non si capisce quali siano perché il fascismo non è uno di questi per me eppure la questa guerra e questa condizione economica e sociale promuove il fascismo nei nostri paesi e quindi credo che ci sia la necessità e il dovere da parte nostra di ripensare l'Europa come uno strumento di pace io penso che quello che abbiamo messo insieme oggi in questi giorni e nel futuro sia la necessità come abbiamo detto anche convocando queste giornate della intersezione della capacità di convergere di insorgere come ci dicono i compagni della GKN cioè creare le condizioni per cui tutte le battaglie le singole battaglie trovino il modo di unirsi e di identificarsi in una sola mobilitazione e penso che come in Germania dicono la pace non è tutto ma senza la pace niente è possibile non è possibile nella transizione energetica non è possibile la giustizia sociale non è possibile la redistribuzione della ricchezza allora io credo che il nostro impegno da qui a a un mese è quello di costruire mobilitazioni in tutta Europa per chiedere la fine della guerra e la trattativa credo che questo grazie credo che questo impegno è una cosa che noi dobbiamo assumerci anche consapevoli della nostra limitata forza però esiste secondo me un sentimento popolare che in Italia abbiamo dimostrato essere maggioritario anche con la convocazione della manifestazione del 5 novembre ecco io credo che quello che abbiamo fatto è non soltanto buttare il cuore oltre l'ostacolo ma dare voce a un'idea a un a un senso di rivolta contro quello che sta succedendo e quello che la guerra comporta anche in termini di impoverimento che questa produce allora io chiudo qui il tempo è poco e penso che da qui in avanti ci dovremo vedere molto più spesso costruire relazioni sempre più strette allargare questo fronte contro la guerra al lavoro e alla lotta grazie a speak now it's Heidi mein helps me mein sold no being here for me it was really a great experience of learning this kind of lifelong learning which is the basis of our inspiration to stop war to stop violence and I was really not sure before I came here that this could happen because there is so much pessimism in the world and I'm coming from Germany and where we have ministers who say pacifism is now a far away dream as if pacifism would be realistic only in good weather times and the media are jumping on all of these priorities now and they explain us the normality of war that we have to accept because it's human somehow is inhuman it's the maximum of inhumanity what we are facing because it's violence on all levels on the persons who are killed the nature the environment which is destroyed poverty is raising discrimination all of these elements where we are destroyed are destroyed but this is such a toxic mixture that has a tendency of on the one side silencing us and really being depressed and put really down our energy to still to work in the spirit of prevention and this is for me this priority is so important and we cannot forget about it because it's not just healing the worst consequences out of war and violence it's really preventing and this is was the idea and just allow me as I'm a member of Women's International League for Peace and Freedom who was built up in 1915 from women who wanted to stop this war and on the basis of better from Sutna of course also lay down the arms and universal disarmament they failed at this time they could even not avoid fascism but they continued and I think the combination which came up in the year 2000 of the Women Peace and Security Agenda was progress bringing all these elements together from protection to participation equal meaningful participation and of course prevention it's not the paradise and especially not for the participation of women in democratic processes and negotiations and actually we are risking to be kind of co-opted in a nice way by some like-minded governments and new logo of the feminist foreign policy which is just a nice also kind of greenwashing element it could be important but it is not really as necessary as it is the inspiration comes still out of movements such as the women in black who continue after the experiences in the horrible experience they went through in the volcans and still are going through the mourning of all the losses but they keep on their networks and probably most of you have seen the film of the Liberian women pray the devil back to hell also this is an inspiration and I want to end up with my the logo which is also practiced here in with the Italian women but also in Switzerland no care no peace so the caring society is what we need and what we cannot forget about and yeah this makes us strong still thank you thanks Heidi the next speaker is Swad from the gender observatory in Libya this is a very special situation because of security reasons it's not possible for Swad to be in front of us so she'll speak from the back of the room and we won't see her face but while she's speaking we will see a film made by her about the situation of migrants the tragedy of Libyan migrants migration so we ask you to respect this particular situation and also to not please not take any photographs or film of the film itself also for security reasons okay thank you good you I speak N I I Io sono Libyanne, ho venuto a Tripoli, ho passato due giorni di tragetto, e quando sono arrivato a Tripoli, ho passato ancora due giorni di tragetto. Immaginare la situazione di Libyanne, per la guerra, la guerra civile, per la divisione reale, e, portanto, l'Europa ha deciso di rinnovare gli immigrati a noi, l'Europa ha deciso che la Libyanne devia diventare la frontiera dell'Europa. Io sono qui per dimostrare la tragedia che stiamo a vedere. Là, siamo in un momento di rinnovare le cadavere, le cadavere di centenze di cadavere, che sono registrati dalla mer. Non non lo so se si voi potete immaginare, le cadavere di donne, le cadavere delle donne, le cadavere di sottotitoli, le cadavere di donne, le cadavere di una terra, in Italia, in tutto, in Italia. la tragedia che ci siamo in attrazione a questi ragazzi senza sapere l'identità a parte del prelitto del prelitto di ADN che un giorno potremmo va riconoscere loro nomi o loro identità mentre quando si stiamo di questo film che era spesifichamente per il Tribunale Permanente del Peuple per questo motivo che il visaggio lo vedo direttamente perché ci siamo in loro visaggio e i loro nomi per che sia un lavoro giuridicamente parlato acceptable mentre quando si stiamo abbiamo avuto una tragedia che mi piacerebbe quando si stiamo davanti è il ritorno di un patello che abbiamo chiamato il patello Malta dopo che ci siamo arrivati a Malta Malta hanno deciso di rinvolare questi ragazzi ancora in Libia ci siamo in Libia ci siamo in Libia ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo per 这个 ma mi ce che vi volevo dire è che questa tragedia siamo tutti responsabili Perché per una persona che quittà il suo paese, c'è una razza, non. La climatica, la razza delle guerre, le Terranie, che era un luogo dove non poteva più vivere. Ma chi è responsabile di tutto questo? Perché le persone che sono qui iniziano? Perché vogliono partire? E perché dovrebbero morire in la mer? C'è una domanda che mi chiede a tutti. E io volevo stare davanti a una realtà. L'Europa, che finanzano i luoghi dei cittadini per impedire queste persone di andare più avanti, vedete la realtà della loro vita. Tutto che hanno dipenduto, è per farlo. le batte, ma miserable batte, di andare più avanti e tornare in condizioni miserabili in Libia. tutto ciò che potete immaginare con l'Italia e la Libia, o l'accord dell'Europa con la Libia, tutto ciò che potete immaginare, non vediamo nulla, non vediamo il riflesso di questo, nella realtà della cosa. non vediamo il riflesso di questo. non ho visto di medicare che sono arrivati a questi giorni. E se volete vedere questo film, che sarà programmato per una tournita in Europa e in Italia spazifichamente, io vi lascerò parlare di questi giorni, perché loro riflessono la verità, la realtà delle cose, la realtà dell'Europa e la realtà della Libia. Quanto a me, non posso solo fare lo necessario di essere il porto parola a questi giorni. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Il nostro canale è Mahnaz Florents. Mahnaz? Welcome. From the Iran, the Comunità Iraniana, Donna Vita Libertà. Sì, sì, così. Buonasera a tutti. Oggi sono qua per dare la luce a tutto quello che sta accadendo ormai da due mesi in Iran. E forse anche in realtà da 43 anni. E vorrei mettere in guardia a tutto il mondo che il regime islamico non è solamente un pericolo per il suo popolo, anziché un pericolo per il tutto il mondo, per Mediorente. Perché tutti questi 43 anni, gli islamisti, quando hanno preso in mano il potere, hanno cercato di dilagare e di intervenire nei paesi vicini, come Siria, Iraq, e anche inviando terroristi con interventi terroristici nel paese europeo. Iran da un bel po', direi, da ormai 43 anni, però più sentita da 20 anni, una polveriera che basta una scintilla per esplodere. E infatti, questa volta esplosa per la uccisione di una ragazza kurda, perché non rispettava le regole imposte, le regole mediovali imposte dal governo islamico. Questa ragazza viene uccisa perché non portava il velo correttamente. E questo è stato il motivo, non diciamo il motivo principale, forse la scusa che il popolo è stanco da corruzione, da discriminazione e da ingiustizia sono scesi nelle piazze iraniane. Con le slogan di Donna Vita Libertà che in poche ore è diventata l'emblema di istanza democratica di tutta la popolazione. In tantissime città iraniane giovane ragazze e giovani ragazzi scendono nelle piazze dimostrando che il popolo non vede la ora di fare conti definitivamente con questo regime sanguinario. Archiviando per sempre 43 anni di corruzione sfruttamento irrazionale delle risorse ambientali ed economiche del paese violenze sopplusi censure e repressione regime islamico regime iraniano come altri stati capitalistici che ci sono arricchiti tutti questi anni derubando il paese ormai incapace di fermare la rivolta usa tutti mezzi impensabili per intimorire il popolo in questi due mesi sono stati uccisi più di 320 persone in cui 40 minori il massacro preparato dalle forze di sicurezza non si ferma e la repressione stesa nei confronti di tutti e non risparmia nessuno gli adolescenti delle scuole medie vengono uccisi a manganellate perché non cantano inno dedicato a Kamenei gli arresti di questi giorni hanno superato più di 15.000 che tutti rischiano seriamente la morte e già nove di loro sono stati condannati a morte come dicevo il regime iraniano non è solamente un pericolo per il suo popolo per tutto il mondo praticamente il regime iraniano cerca di intervenire nei paesi vicini appoggiando gruppi estremisti nel paese vicini Sardar Soleimani che da islamisti viene presentato come un eroe in Siria e in Iraq conosciuto come un assassino è bene a sapersi che due anni fa noi abbiamo trovato la foto di Sardar Soleimani diffuso lo stesso giorno in diverse città iraniana come un eroe come un salvatore di diciamo popolo siriano diffuso da Casa Pound e Forza Italia perché praticamente loro vengono finanziati dal regime islamico dal regime iraniano Iran sta vivendo un momento veramente difficile noi comunità iraniana cerchiamo di dare voce dare la luce a tutto quello che sta accadendo in Iran non abbiamo speranza speranza che altri paesi vengono a come si dice a bloccare rapporti commerciali sappiamo perfettamente che odore di petrolio copre perfettamente odore di sangue dappertutto non vogliamo che paesi esteri vengano a salvarsi come è successo in Iraq e in Afghanistan e tutti sappiamo che che fine hanno fatto questi popoli però vogliamo che paesi europei smettino di di sostenere il loro assassino bloccando il loro conto bancarie sono passati due mesi nessun parte del mondo nessun ambasciatore iraniano è stato convocato per rispondere ai crimini che sta succedendo in Iraq nel Parlamento europeo hanno tagliato le ciocche di capelli hanno cantato con il popolo iraniano donna vita libertà non è sufficiente non è basta bisogna intervenire intervenire immediatamente come dicevo non aspettiamo che vengono da estero a salvarci però aspettiamo che danno la voce a tutti quello che sta succedendo a chiedere conto da un regime sanguinario almeno questo possono fare e con la speranza perché è successo anche venti anni fa praticamente negli anni ottanta il regime iraniano ha ucciso più di undici mila prigionieri iraniani cucilando perché pensavano diversamente questo massacro fortunatamente dopo tantissime vittime stato bloccato perché dall'ONU e dall'organizzazione di diritti umani un gruppo sono intervenuti in Iran controllando i carceri iraniani la nostra richiesta immediata immediata veramente perché domani sarà troppo tardi che ONU o organizzazione per diritti umani mandino per controllare i carceri iraniani e chiediamo da voi di ognuno di voi che siate la nostra voce per fermare questo massacro che ora sta succedendo in Iran grazie Raffaele asked me if I wanted to make two small reflections at the end of this very rich and really fascinating set of presentations. And first of all, thank you to every single one of the people who contributed to the discussion. And thank you all for patiently listening and following. Actually, I think we've had a lot of very precious experiences shared and analysed, which has been tremendous. But I think for me, if there was one thing that I would sort of take home, if you like, is that there seems to be a lot of, from what I hear, a lot of distrust of politics in general. And that that opens a space for the right to come in with very simplistic answers to very complex questions. And in different ways, in different places, I think the call is for very concrete action and concrete solidarity. And a lot more, let's say, humility on the part of the intellectuals of the left, to really engage with the with the communities and the schools and the people on the ground. For me, that was amongst the hundreds of things that were said, they were things that resonated with me. But everyone has the night to reflect and to discuss, and we have the opportunity to come back again tomorrow at 10 o'clock in this same room to continue the discussion. Before we leave, first of all, as I said, thanks to the speakers, thanks for all of your attentive listening. Thanks, most importantly, to the interpreters who just kind of absolutely wonderful job. And also to the technical team who've done a wonderful job connecting us with Egypt, with Bolivia, with Brazil, showing videos. It's fantastic. It's fantastic. There's a huge amount of work that's gone on to bring this all together. Thank you to the Italian organizers for this terrific program. And just to remind you, if you want to join the Fridays for the Future action, it's at the Piazza Santa Maria Novella. Now, now is the time. We can meet now and go together. And we need some people with local knowledge to lead the way. Okay. So, buona sera, everyone. Thank you very much.